Cominciamo questa giornata di studi che è la prima di due che abbiamo veramente tanto desiderato perché appunto Carlo, come sappiamo, è in questo momento qua impegnato su vari fronti e ha deciso di farci questo che viviamo tutti come un regalo, cioè quello di portare il suo contributo sia a noi come Istituto Mitchell, come scuola di psicoterapia, sia a noi come, diciamo così, istituto di ricerca e di formazione che cerca di, che appunto è attento alle dimensioni più interessanti che oggi come oggi cambieranno e stanno cambiando e cambieranno il nostro modo di fare ricerca, tutto sommato di fare formazione, almeno in parte, e probabilmente anche di vivere la nostra vita quotidiana. Cioè appunto le tematiche legate all'intelligenza artificiale. Carlo le sta studiando da quasi due anni, diciamo, e le sta studiando con una passione che lo caratterizza in tutte le sue manifestazioni, diciamo, di persona e sicuramente anche in tutti i suoi interessi. Il curriculum di Carlo non è riassumibile neanche in una settimana di discorso in interrotto e tra l'altro gli allievi appunto avranno poi a disposizione alcune sue pubblicazioni che ho intenzione di mandare, poi ne parliamo meglio. Carlo è docente dell'istituto, Carlo è professore come ultima cosa, diciamo, è docente del nostro istituto, è professore associato alla Università Statale di Milano, è professore ordinario, abilitato, ma in questo momento è in ruolo come professore associato. ha una carriera quindi di ricerca importantissima e rilevante nell'ambito della medicina, nell'ambito della psicologia, dico queste cornici così molto ampie perché effettivamente i suoi interessi sono contenuti se soltanto da cornici molto ampi. e ha anche una carriera molto lunga come clinico, ha lavorato molto come psicoterapeuta e poi ha scelto di lavorare come psicologo, psicoterapeuta e medico nell'ambito pubblico, quindi all'istituto di tumore di Milano, sono da veramente molti anni, adesso non ricordo neanche, 25 anni, che lavora con bambini che hanno diagnosi oncologiche, genitori evidentemente, equip perché ha anche una serie di conoscenze su come far funzionare l'equipe, di come far funzionare, diciamo così, la riflessione psicologica e medica all'interno di gruppi che si occupano di sofferenze importanti e anche di malattie somatiche importanti. Quindi è una persona che nella sua vita ha dedicato molta attenzione all'approfondimento di questioni che sono cruciali e rilevanti per tutti noi e oggi è un vero piacere ascoltarlo, sarà un vero piacere ascoltarlo per due giorni, occuparsi di una tematica che effettivamente aggiunge qualcosa e forse cambia anche un po' il nostro modo sicuramente, secondo me, di fare formazione e quindi di studiare anche, di fare ricerca e dal punto di vista clinico ascolteremo delle cose interessantissime che lui ha approfondito e sta approfondendo anche in termini personali, appunto legate alla sua capacità di comprendere come aiutare le persone e in questo caso lui si muove come ascolteremo sia da clinico sia da paziente, facendo le considerazioni interessantissime sulle cartelle cliniche e su altre tematiche che ascolteremo. Cioè, sto zitto ma perché altrimenti invece andrei avanti veramente tutto il giorno a parlare di te perché sappiamo che quanto la stima che riponiamo in te è veramente sconsiderata. Quindi ti lascio la parola in modo che cominciamo a andare sui contenuti. Grazie mille di essere tra noi Carlo. Grazie, grazie Cesare. Intanto ammetto un paio di persone che stanno entrando. Sono aiutato da Rocco qui direttamente a casa e abbiamo in collegamento Giuseppe Levi che è il vero esperto di informatica che costituisce, diciamo, l'aspetto molto importante della conversazione che terremo questa mattina e poi il giorno 19. Allora, intanto ringrazio per l'accoglienza. Avrei voluto essere a Torino. Purtroppo la mia salute è stata, diciamo, contrassegnata a partire dal maggio del 2023 da un tumore raro che è un timoma e da una sindrome di Good che è una grave immunodepressione che comporta anche il fatto che io non mi possa esporre a situazioni di gruppo direttamente. Quindi ci sono delle regole di prudenza speciali. Torino sarebbe stato di solito un paio di volte l'anno era una meta fondamentale per la mia vita. Però diciamo che questa situazione così strana ha portato a mettere in dialogo tre identità su cui ritengo di avere qualche cosa da dire più della lezione che inizialmente era stata prevista sulla psicologia ospedaliera dove anni fa, come l'avevamo pensato, il contributo all'Istituto Mitchell era di venire a parlare di che cosa è il lavoro di uno psicologo clinico con pazienti con malattie organiche. La malattia organica non la vedo più da lontano, la vivo da dentro e mi sono trovato anche in una condizione di relativo fisico svantaggio per cui l'intelligenza artificiale da un po' di tempo sembra offrire delle potenzialità molto interessanti anche in un momento in cui io da alcuni mesi non sto facendo lavoro clinico per motivi che immaginate perché di giorno in giorno non so se sto peggio io o stanno peggio i pazienti in condizione anche questa del tutto nuova nella mia esistenza allora intanto faccio la registrazione, cioè c'è lo streaming su YouTube faccio la parte più pericolosa, il tuffo carpiato che è la condivisione allo schermo dopodiché siamo pronti per iniziare condividendo con questa modalità dove mi vedete e si va su condividi dovreste vedermi un po' dentro le slide ma abbiamo visto che sembra l'effetto più decente se poi ci sono delle parti censurate della slide cerco di scomparire in qualche modo allora vi faccio un brevissimo menu dell'incontro l'incontro è organizzato su due mattinate il prossimo sarà un sabato mattina quindi sempre un po' faticoso, impegnativo da seguire ma speriamo di tenere un ritmo nonostante i miei limiti fisici sento il ritorno dall'aula non so se il microfono va spento ho tenuto acceso Cesare solo come dato sostanzialmente si tratta di avere un'introduzione attorno a questo fenomeno che negli ultimi due anni è dilagato in tantissimi campi delle attività economiche, produttive, della comunicazione e ha avuto anche un impatto nel campo clinico un impatto però che abbiamo visto non so la vostra esperienza poi mi piacerebbe ascoltare la vostra esperienza assai variegato per cui ci sono degli ambiti in cui ci sono ancora delle fortissime resistenze e addirittura dei limiti alla curiosità ok questo non è per noi questo messaggio non senti nulla no, perfetto allora qui c'è un indice generale ma come dire ci muoveremo liberamente usando le slide che io ho preparato ma gli argomenti partono da un'introduzione cioè che cos'è l'intelligenza artificiale mi piacerebbe qui chiederei semplicemente di magari alzare le mani chi di voi già la usa l'intelligenza artificiale la usa molto molto chi la usa medio e chi si è approcciato chi si è incuriosito all'intelligenza artificiale qui adesso non vedo più vabbè comunque diciamo diciamo che dipende molto dalle categorie professionali perché alcune categorie professionali ne hanno avuto un utilizzo massiccio già da almeno un paio d'anni nel contesto dove lavoro in realtà l'approccio è stato diciamo prudente particolarmente prudente in ambito medico la situazione è abbastanza disomogenea vediamo vediamo quello che diremo cerchiamo quindi di avere un avvicinamento a questa che è sembrata una stranezza esplosa in realtà è una questione che gli informatici studiano da molti decenni come si si costruisce l'interazione con la macchina attraverso questo termine che sembra esotico che è diventato assolutamente di uso comune che è il cosiddetto prompt design che alcuni addirittura si fanno diciamo pagare come competenza formativa a caro prezzo in realtà per chi fa un mestiere come lo psicologo lo psichiatra l'avvocato il giornalista chi si intende di comunicazione in realtà ha già in sé quasi tutti gli elementi per far bene il prompt design salvo le competenze informatiche di cui poi Levi ci dà ampia ampia illuminazione ma diciamo non si tratta di imparare una lingua nuova si tratta di ragionare sull'utilizzo di come attraverso questa è la novità introdotta dall'intelligenza artificiale cioè come si riesce a comandare una macchina attraverso il linguaggio e questa è la novità sorprendente mentre prima bisognava imparare un linguaggio dedicato quando io ero ragazzino c'era il basic per il Commodore 64 c'erano dei linguaggi tecnici che avevano una loro diciamo delle loro regole oggi è possibile usare il linguaggio che usiamo nella vita di tutti i giorni per far svolgere le funzioni della macchia quindi senza avere delle competenze di programmazione questo è l'approccio che vi sta parlando non è un informatico non ho nessuna competenza informatica questo secondo me è particolarmente interessante perché è possibile almeno arrivare fino a un certo punto senza possedere le basi minime poi viene voglia probabilmente di studiare e di approfondire vedremo questo è un capitolo a cui tengo particolarmente come l'introduzione dell'intelligenza artificiale ci può aiutare nella comunicazione e nella didattica alcuni atenei sono partiti subito altri atenei non sono ancora partiti o stanno ancora aspettando che arrivi lo sparo del blocco di partenza vedremo un po' questa situazione anche cercando di capire quali fattori non tutti i logico-razionali costituiscono una resistenza oppure un incentivo come tutte le realtà nuove si passa dall'entusiasmo e dall'idealizzazione a una svalutazione o un terrorismo al contrario entreremo poi negli aspetti più tecnici dell'uso dell'intelligenza artificiale come supporto alla diagnostica sia in medicina che in psicologia clinica con tutta una serie di questioni di successi annunciati e di fallimenti che si sono già verificati nel corso degli anni questo è particolarmente importante ci viene detto che la clinica cambierà poi però ad oggi la clinica non è ancora cambiata di fatto in maniera così massiccia per effetto dell'intelligenza artificiale mentre sono cambiate alcune cose ad esempio il marketing o la comunicazione o la diffusione delle notizie giornalistiche in questo campo la rivoluzione è stata assoluta assoluta quindi molto più incisiva che in altri campi leggo il messaggio che mi è arrivato va bene Cesare mi dice che si sente perfetto sono preoccupato che io mi esaurisco la voce grazie in effetti la mancanza di ritorno e vedere le persone come Franco Bolli se va bene non è però abbiamo imparato in epoca Covid come si comunica l'intelligenza artificiale arriva dopo il Covid quindi anche degli impatti dal punto di vista del nostro modo di intendere le relazioni e delle visioni sul futuro questo è particolarmente importante per cui si oscilla tra toni apocalittici e toni entusiastici come dicevamo e c'è da chiedersi e diremo alcune cose come per alcuni le promesse dell'intelligenza artificiale risultano interessanti anche in campi delicati come la relazione diretta col paziente come la psicoterapia e la medicina non è un caso che siamo a parlarne oggi in una scuola di psicoterapia dove non immaginiamo ci sarà domani un sostituto mentre alcuni mestieri sono già stati pesantemente sostituiti in ambiti non clinici dall'intelligenza artificiale pensate ad esempio al lavoro redazionale il lavoro giornalistico il lavoro delle redazioni di Amazon che ti fanno trovare i prodotti preferiti simili a quelli che hai già comprato questi sono stati automatizzati già da anni mentre in ambito clinico ci soffermeremo un po' mi piacerebbe sentire anche la vostra esperienza che è cruciale visto che su queste basi costruiremo probabilmente quello che sarà anche strada futura parleremo di etica e di implicazione dell'intelligenza artificiale nel campo sanitario tema gigantesco che non riguarda solo il campo sanitario perché tecnologie così potenti hanno un impatto rispetto ad aspetti etici veramente molto importanti tanto che tanto che anni fa vi racconto questo aneddoto io ho un buon rapporto con il cappellano dell'istituto di tumori con cui abbiamo fatto parecchie cose Don Tullio Proserpio e lui arriva e mi dice guarda che cosa strana in Vaticano c'è organizzato un congresso con Microsoft rispetto all'intelligenza artificiale e ci siamo guardati cosa c'entra si farà di tutto ma sembra veramente un tema bizzarro non avevamo capito in realtà ma l'aveva capito il Vaticano che si trattava delle avvisaglie di una rivoluzione in cui i grandi potenti mondiali dispongono di dati come se fossero del petrolio quindi tutti i dati della Cina sono del governo negli Stati Uniti le compagni private hanno quasi sostituito completamente gli Atenei negli aspetti di ricerca quindi con mega finanziamenti e l'Europa che cosa può fare? L'Europa può tentare appellandosi ad una tradizione molto alta di cercare di trovare degli strumenti per regolare questo che rischia di essere un'oscillazione fra dittatura e mercato un'alleanza alcune volte addirittura inquietantissima quindi aspetti etici ci interessa parleremo di impatto sui casi clinici e poi fra i moduli finali ma non finali ci chiederemo se questi strumenti possono essere utilizzati dal punto di vista della ricerca e qui ci sono le cose magistrali che Giuseppe Levi sa dire che ha già anticipato in un incontro in statale più brevemente le settimane scorse dove l'apparente onniscienza e potenza di questi sistemi è calmierata attentamente per dover rispondere a criteri che riguardano appunto la possibilità di cause cioè l'avvocato nordamericano è il parametro di riferimento per l'intelligenza artificiale e quindi interessa al ricercatore anche conoscere i limiti e come diciamo oltrepassare i limiti di queste tecnologie da ultimo cercheremo di avere qualche ipotesi su come poter intanto qualificarsi su questo tema dell'intelligenza artificiale da medici da psicologi da professionisti è come mantenere un aggiornamento visto che una delle difficoltà più importanti di questi ultimi due anni è stata il diluvio letteralmente il bombardamento di informazioni e notizie che hanno mescolato propaganda di nuovi prodotti perché le aziende le company sviluppano nuovi prodotti che devono essere venduti e invece notizie sull'impatto personale e sociale sul mondo da parte di queste tecnologie con una difficoltà per molti di anche capire i fondamentali per cui ci sono ancora molte persone che non hanno ancora aperto un sistema di intelligenza artificiale pratico che invece potrebbe dare un aiuto anche nella vita comune non professionale le cose che diremo stamattina dovrebbe essere stato consegnato ad amazon per la stampa ma lo trovate gratuitamente dopo vi daremo le coordinate soprattutto con grande piacere per chi partecipa all'istituto michele o chi sta seguendo questa iniziativa questo libro che ha del miracoloso perché io mi dovevo dedicare a questo testo dopo mesi di lavoro durante l'estate andando in montagna e ho passato invece un mese in ospedale con tre ricoveri successivi ma questo osservatorio di cui fa parte Levi di cui fa parte Rocco che è qui accanto a me e molti amici fa parte Cesare che è anche uno dei coautori assieme agli altri di questo testo insomma al giro di un mese siamo stati in grado di condensare mesi di lavoro precedenti in un testo che abbiamo chiamato cosa me ne faccio l'intelligenza artificiale cioè il tentativo è di dare uno strumento pratico e di descrivere le esperienze d'uso in clinica didattica universitaria questo dopo avremo un QR code o c'è una pagina del sito che si chiama prospettive cliniche da cui è possibile scaricare io vi consiglio la versione in definizione più compattata che è molto molto agevole e è possibile scaricarlo gratuitamente poi sarà disponibile anche su Amazon come copia cartacea ma senz'altro è la modalità più importante allora io direi iniziamo se Slevi rimane ancora in attesa per qualche minuto poi passerò la parola a lui perché perché la parte su che cos'è l'intelligenza artificiale mi piacerebbe che vi fosse raccontata da chi veramente se ne intende io me la sono studiata me la sono dimenticata l'ho reimparata mentre le cose con cui arrivo a parlare con voi vi dicevano dovevano essere riflessioni attorno al tema della psicologia ospedaliera in origine e quindi abbiamo fatto questo salto questa specie di scarto per portare qualche cosa che ci sembra piuttosto nuovo oggi i corsi universitari sull'uso clinico dell'intelligenza artificiale sono ancora rari questo che vi sto presentando è di fatto un po' un'anteprima e anche un po' una prova generale di che cosa si può dire attorno a questo argomento naturalmente il tema della consulenza psicologica rispetto ai pazienti con malattie organiche gravi è stato il mio tema di interesse più rilevante dal punto di vista accademico e di clinico come sanitario quindi sono le cose su cui ho accumulato le poche competenze che ho e dove i modelli teorici erano spesso simili alla torre di babele perché già noi abbiamo decine e decine di modelli diversi di psicoterapia e di intervento psicologico per cui vorrei farvi a costo di annoiarvi un pochino due punti fermi per dire alla luce di che cosa guarderemo anche il mondo dell'intelligenza artificiale allora guarderemo secondo intanto tre tre assi importanti cioè ci interessa sia la clinica sia la didattica sia la ricerca io su questo tema sono tra l'altro in un momento in cui sto revisionando un po' la bontà del mio lavoro di tanti anni anche in termini esistenziali rimango convinto che per curare bene bisogna fermarsi a riflettere su che cosa si fa e provare a sistematizzare delle osservazioni trasformandone in ricerca e didattica quindi è secondo me che non vuol dire che tutti devono diventare docenti ma vuol dire che per svolgere una pratica clinica sensata bisogna esporsi al confronto con gli altri e bisogna condividere queste cose sforzandosi di utilizzare il metodo scientifico questo è uno dei criteri per cui credo all'istituto Mitchell ci sia questo spinto e questo interesse anche verso l'aspetto della ricerca anche se la vocazione non è quella di un dottorato universitario del resto oggi la ricerca più importante in campo informatico non la stanno facendo gli Atenei ma la stanno facendo altri altri contesti secondo secondo principio che mi anima questo è molto commerciale ma l'avevo imparato anni fa in un contesto sanitario molto alto in cui mi era capitata occasione di lavorare era quello dei trapianti sull'organizzazione completamente pubblica del nord Italia a trapianti dove il motto era fare perché è un po' il motto milanese di lavorare ad ogni costo fare bene questo non c'è dubbio e allo stesso tempo vale poco anche lavorare bene se non si divulga quello che si fa cioè se non c'è un impatto dal punto di vista della diffusione delle conoscenze della comprensione di quello che si fa sulla società civile questo è un punto molto importante a questo punto Cesare ti conforto che i miei polmoni per qualche resti di polmoni per qualche motivo stanno reggendo per cui e qui c'è un tema su cui se tu poi vuoi intervenire magari mi farebbe piacere un tuo conforto perché negli anni noi ci siamo molto ci siamo molto dedicati a pensare che cosa stiamo facendo dal punto di vista clinico e se c'è una cosa in cui io ho sentito moltissimo l'amicizia l'affetto e il sostegno di Cesare è stata nel poter essere libero di pensare a un modello clinico che non fosse inchiodato alle realtà unicamente di modelli antichi che erano in parte superati chi di noi ha fatto la psicanalisi classica l'ha trovata interessantissima personalmente avevo fatto l'analisi con la Dina Vallino e con Enrico Lucchin quindi analisti classici della società psicanalitica e poi la sorte mi aveva portato a lavorare in ambito clinico dove le persone non si ammalano mentalmente e non si ammalano psicanaliticamente ma gli viene una roba alla corpo che condiziona poi le loro possibilità di adattamento e di avere una vita sensata una vita buona oppure una vita indecente e quindi le risorse quali sono non solo il colpo segreto la mossa della palma vibrante come Bruce Lee dell'interpretazione di Transfer che ci veniva raccontata come l'arma segreta dello psicanalista ma attraverso una rete integrata di supporti che vanno dal supporto sociale che se una famiglia crolla c'è poca filosofia che si può fare l'aiuto pratico l'informazione la comunicazione che in medicina costruisce o distrugge mondi il cancelling il supporto emotivo e anche componenti che sembravano lontani dalla nostra tradizione come gli interventi cognitivo-comportamentali e qui c'è un errore ortografico ma non c'è un errore nella prassi l'uso degli psicofarmaci e pensare che la farmacologia influisce pesantemente sulla macchina per pensare anche in senso positivo questo è uno strumento fondamentale e quindi trasmettere alleanza e fiducia è un aspetto molto importante quindi un modello variegato queste sono le coordinate alla luce di cui vi parlo vengo all'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale è un gioco anni fa era un gioco di fotoritocco questo è un mio antenato che faceva il trasformista questo è Levi vestito da pompiere così iniziate a vederlo perché io sto tenendo ancora in lungo ma fra poco ci siamo Levi che che è fisico non informatico ma insegna informatica ai fisici ed è stata una conoscenza preziosissima che ringrazio anche per l'amicizia che in questi mesi mi ha dimostrato il grande effetto perché non sapendo nulla di intelligenza artificiale in pieno periodo del primo ricupero della mia malattia io proposi una conferenza che avevo chiamato due fette di intelligenza artificiale dove se guardate questa fotografia è frutto dell'intelligenza artificiale perché avevo scambiato la faccia del salumiere con la mia faccia attraverso un sistema basato giochino un po' divertente per questo aspetto l'intelligenza artificiale aveva avuto delle come dire degli exploit anche assolutamente come dire molesti fastidiosi tempo fa un collega molto ostinato nel nostro ambito della psicologia clinica che ha la passione di comporre sculture con oggetti ritrovati sulla spiaggia si ritrova bannato da facebook me lo scrive non capisce il motivo e a me viene in mente che avevo letto su un forum che a volte le immagini venivano lette in un sistema automatizzato dell'intelligenza artificiale per cui queste sue fotografie in cui in una c'è una Barbie obiettivamente nuda ma che non mi sembra una sconcezza perché Barbie è fatta così e viene in realtà censurata in automatico cioè viene assegnata una delle sanzioni oggi più gravi socialmente cioè la sospensione temporanea dei social e grazie al capire questo meccanismo poi lui può chiedere la riabilitazione di essere ammesso cioè sostanzialmente affidare una procedura sanzionatoria a una macchina è un elemento pericolosissimo oggi arriva sotto forma di questo giochino domani potrebbe arrivare attraverso delle cose più serie e impegnative io qui passerei un po' la parola e magari la condivisione dello schermo a Giuseppe Levi sulla parte perché queste sono mie slide sul funzionamento dell'intelligenza artificiale ma il discorso senz'altro merita di essere condotto meglio quello che io sapevo dell'intelligenza artificiale per anni era quello che diceva la fantascienza o dicevano i telefilm per cui la macchina intelligente la macchina che si regola da sola finché a un certo punto arriva qualche cosa che sembra l'onda dello tsunami qualche cosa che spazza via completamente tutto Giuseppe ti passerei tanto ammetto due persone non ti sento ecco adesso magari mi sentite che non mi si stava attivando l'audio non si sa perché ovviamente i sistemi adesso sei a posto ok allora sì una parolina adesso condivido il mio schermo tu queste qua ho il computer che sta facendo delle bizze capiremo poi perché adesso schermo due condiviso queste selezioni condividi ecco magari adesso lo state vedendo vediamo perfettamente ok allora questi slide tu li hai già viste però io ci terrei prima di tutto a fare una precisazione sul termine intelligenza artificiale intelligenza artificiale è un campo vastissimo della informatica vuol dire fare in modo che le macchine possano imitare quelle che sono normalmente considerate prerogative umane ma è un campo estremamente vasto come dire la medicina la medicina ha tanti campi la psicologia la psicologia ha tanti campi qua ne vediamo qualcuni la robotica l'internet of things noi non ce ne rendiamo conto però la internet è usata tantissimo dagli oggetti del nostro quotidiano abbiamo oggetti che comunicano in rete comunicano con server comunicano fra loro analisi audio in questo momento per esempio vedete le le sottotitoli vuol dire che l'audio che viene espresso in questa conferenza è analizzato dalla macchina e in diretta viene trascritto prima per scherzo l'avevo messo in giapponese potremmo addirittura fargli fare in diretta una traduzione ma ci sono anche per esempio deep learning io posso allenare dei sistemi a fare riconoscimento di pattern a riconoscere degli oggetti a fare delle delle modellizzazioni questi sono questo per dirvi che quello che adesso viene chiamato l'intelligenza artificiale cioè il large language model che tutti chiamano chat GPT così come le penne a sfera sono chiamate le le BIC perché ci si riferisce a una volta si chiamavano le Biro riferendosi al loro inventore chat GPT è soltanto uno dei large language model che abbiamo a disposizione in realtà sono decine se non centinaia ma questi costituiscono una piccola parte del di un campo molto più vasto qua vedete un piccolo schema artificial intelligence in generale tra l'altro queste parole la parola intelligence significa in inglese sia la capacità di elaborare le informazioni sia le informazioni stesse pensate la CIA Central Intelligence Agency questa è l'agenzia americana i servizi americani che si occupano di recuperare le informazioni dall'altra parte abbiamo il natural language processing cioè il processamento del linguaggio naturale ma che c'era prima è nato già con i primi word processor già quando avete il correttore ortografico questo può essere considerato natural language processing anche se molto di base abbiamo la computer vision il fatto che le macchine sono in grado di vedere e classificare oggetti dentro questo poi abbiamo il machine learning cioè macchine che imparano dai dati è un algoritmo che prima magari non sapeva fare qualche cosa lo gli diamo dei dati classificati o non classificati qua ce ne sarebbe da dire ma lui pian piano comincia a imparare e riesce a fare sempre meglio alcuni compiti il deep learning che è diventato già dagli anni 2000 circa uno ha cominciato a fare reti neurali con strati sempre più profondi si è visto che diversi strati riescono a modellizzare diversi aspetti dei dati reali dei dati presi dai sensori e dentro tutto questo ci sono i large language model il motivo secondo me per cui i large language model hanno avuto stanno avendo una tale ripercussione beh perché ci troviamo di fronte a macchine che riescono a interagire con gli esseri umani in modo estremamente umano Carlo vi spiegherà vi faremo vedere diversi esempi e abbiamo fatto con Carlo delle sperimentazioni dove riusciviamo a far imitare alla macchina non tanto il ruolo del terapeuta ma il ruolo di un paziente dicendogli tu sei da adesso in poi un paziente con determinate caratteristiche e quindi ci troviamo di fronte se volete a un golem io ci stavo pensando è un essere quasi mitico l'uomo ha creato qualche cosa che imita l'uomo stesso e gli risponde in modo umano questo ha secondo me diverse diverse implicazioni anche piuttosto pericolose in tutto questo c'è gente che è riuscita per esempio a clonare le voci usando il large language model a cercare di fare delle truffe vi faccio vedere spero che la pagina sia pronta e magari non si legge ma questa è un'interazione che ho avuto con questo che vedete è in realtà io ne uso tantissimi ma gli ho chiesto fai finta di essere uno psicologo scusate il refuso ma lui non in un'epoca dove non sono noti large language model la sigla LLM vuol dire proprio large language model modelli linguistici grandi modelli linguistici o comunque non li conosco ti arriva un paziente che dice di parlare col proprio computer in linguaggio naturale e che il computer gli risponde in modo intelligente che può esprimere delle personalità sono tutte cose che in realtà ormai le macchine fanno possiamo farvi vedere degli articoli riguardo a questo che diagnosi esprimeresti allora CiaciPT mi risponde che beh questo signore magari io potrei avere un disturbo psicotico potrei noi potrebbe ipotizzare che io sia vivendo allucinazioni devili potrei avere un disturbo dissociativo potrei cioè trasmettere sul computer parte della mia personalità questa è qualche cosa di con cui con Carlo abbiamo parlato perché noi ci rivolgiamo delle volte a questi questi strumenti tecnologici in modo gentile oppure abbiamo l'impressione che siano umani beh probabilmente perché proiettiamo noi stessi sulle macchine potrei avere un disturbo delirante oppure magari un'ansia di isolamento sociale e quindi trovare nella macchina un conforto guardate che tutte queste cose sono accadute vi ricordo che non so se l'avete letto come come fatto di cronaca come fatto di cronaca un dipendente un ingegnere di google venne licenziato perché cominciò a dire che i modelli large language model in effetti avevano una volontà avevano un'anima erano vivi e si era convinto di questo ed è diciamo questa è una trappola è un tipo di spero di usare la parola giusta non è il mio campo ma un tipo di delirio che potrebbe essere comune quindi tornando alle nostre trasparenze la sono moltissimi anni che la AI e gli strumenti di intelligenza artificiale sono usati in medicina magari non come large language model ma per esempio come assistenza nella interpretazione e radiografie quindi leggi computer vision e deep learning e se vedete qua questo link magari ve lo potete compiare comunque c'è su Nature che è una delle maggiori riviste scientifiche a livello mondiale quindi è una fonte piuttosto affidabile c'è un approfondimento di tutto questo qua si parla anche di drug discovery and development i large language model adesso vengono usati per esempio per fare analisi grandi analisi di letteratura e cercare di fare drug discovery comunque il fatto che abbiamo insieme a noi un collaboratore infatti alcune di questi uno dei tanti sistemi è chiamato copilot diciamo il fatto che esista un collaboratore artificiale un collaboratore digitale che ci possa aiutare in diversi compiti è qualche cosa di ormai assodato e sarà sempre di più così sarà sempre diciamo avremo a che fare con questi oggetti in modo sempre più pervasivo tanto è vero per esempio che in università fino all'anno scorso due anni fa si diceva attenzione che gli studenti fanno i compiti usando il large language model beh quest'anno io sto facendo un farò un corso dove gli dico il compito bene il compito lo fate usando il large language model ma siete voi che dovete essere padroni del vapore padroni dello strumento e saperlo come usare e in modo tale da controllare nell'output in modo da essere padroni dei risultati il large language model ormai è diventato uno strumento di lavoro chi non lo usa chi non lo sa usare chi non lo conosce rischia di rimanere veramente indietro ed eventualmente fuori dal mercato del lavoro dimmi tu Carlo se vado avanti spiegando che cosa sono i large language model sì sì io direi che tu sei la persona più assolutamente adatta per spiegare questo io poi ho un set di slide su cui magari volo un po' di più e ti chiedo però di fare dei commenti perché è una mia visione appunto da clinico e non da informatico di come ci siamo trovati di fronte a questa tecnologia così promettente ma anche così con degli aspetti che ci hanno inquietato vai pure ancora e poi quando lo ritieni io sono pronto a proseguire sì sì ma eventualmente interrompimi anche tu allora sovrasemplificando adesso i colleghi informatici mi scuseranno ma diciamo qua non è il caso non è il momento di dare dettagli tecnici sovrasemplificando un large language model è un sistema che permette di prevedere la parola vedete fra le parentesi il termine token perché il token è il pezzettino di testo più o meno simile a una parola in realtà un po' meno di una parola che viene dovrà essere espresso successivamente in una frase un sistema di questo genere viene allenato con un sistema e da un insieme enorme di testi da cui anche un costo enorme per l'allenamento di base di questi sistemi quindi se qualcuno volesse svilupparne di nuovi gli consiglio di partire da zero grazie al cielo aziende come per esempio Meta quella di Facebook ci mette a disposizione dei modelli preallenati di base da cui partire per poi raffinarli e dedicarli a degli scopi specifici quindi allenandolo su un insieme enorme di testi riesce a generare altri testi seguendo gli stili imparati da qui un primo problema un LLM bada più a come genera un testo che al suo contenuto o significato cerchiamo di sfatare un mito un large language model non simula di capire qualche cosa ma in realtà non capisce lui è semplicemente governato dai suoi pesi statistici interni alla macchina e genera delle parole io con gli studenti mi diverto a chiamarle delle volte delle supercazzole in questo esempio e qua avevo messo due link a due discussioni due chat che ho avuto con chat cpt chat cpt 3.5 la versione precedente anzi due versioni precedenti rispetto a quella attuale non riusciva a rispondere alla domanda dove compare la frase carnea di chi era costui chiunque abbia fatto il liceo classico è stato torturato con manzoni e io ho apprezzato manzoni soltanto 40 anni dopo sostanzialmente e carnea di chi era costui è una frase dei promessi sposi e all'inizio del capitolo 8 beh il chat cpt 3.5 si arrampicava sugli specchi io gli stavo chiedendo un'informazione stavo chiedendo da lui non di rielaborare delle informazioni che gli avevo dato ma gli stavo chiedendo un'informazione il chat cpt 3.5 si arrampicava sugli specchi e faceva quel che sono chiamati in gergo allucinazioni fino a dirmi che era una frase generata da Raffaella Carrà come tormentone estivo cosa molto carina da sentirsi dire ma immagino che un professore di 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 liceo magari se uno studente gli dice questo non è tanto contento d'altra canto però col progredire dei modelli c'è cpt4o ci riesce e anche il modello attuale che o1 ci riesce a fare questo poi poi di là prego c'è un microfono aperto se volete fare domande io sono abituato ho disattivato l'audio chiedo a tutti di tenerlo disattivato sì sì ma io sono disposto era un interferenza diciamo in epoca di covid abbiamo dovuto fare lezioni in aureo io dovevo fare lezioni di laboratorio in teleconferenza immaginatevi che bello sì sì va benissimo e quindi sono abituato a questo allora quindi cpt4 ci riesce magari più avanti vedremo come cpt4 è piuttosto avanzato nel cercare di evitare queste cosiddette allucinazioni cosa sono le allucinazioni in letteratura le trovate addirittura col termine bullshit che è piuttosto pesante in inglese andrebbe tradotto direttamente come stronzate e invece a me piace tradurlo come supercazzole dicendo sottolineando il fatto che sono magari discorsi che possono sembrare seri possono sembrare accurati in alcuni casi molto scientifici una volta un sistema mi ha fatto tutto un discorso scientifico con tanto di referenze bibliografiche beh erano completamente inventate adesso le cose stanno migliorando quindi sono delle invenzioni a macchina piuttosto pericolose e vanno evitate vado avanti parlando di prompt sì sì benissimo perché perché il tema del prompt poi lo vediamo anche da un aspetto magari più più rudimentale ma ci interessa la prospettiva che ne hai tu assolutamente il testo con cui stimoliamo la risposta di un large language model è chiamato prompt questa è ormai una parola che sta entrando nel gergo posso quasi dire che sta entrando anche nell'italiano uno con un prompt con questo input stimola il sistema a produrre dell'altro testo quello che viene prodotto a sua volta farà parte di quello che si chiama il contesto cioè la il testo su cui il large language model si basa per produrre il suo il suo testo generato vi faccio un esempio semplicissimo anche se non ce l'ho in slide se io ho la frase oggi è stata proprio una aggettivo giornata per riuscire a capire la frase quale sia aggettivo se sia bella brutta noiosa o divertente non lo posso fare se non ho dell'altro contesto cioè se non ho frasi precedenti oggi ha piovuto tutto il giorno è stata una brutta giornata questo potrebbe andare ma ampriamo ancora di più il contesto dopo mesi di siccità oggi è piovuto tutto il giorno è stata una bella giornata quindi vedete che per prevedere per bene una parola per prevedere in modo esatto una parola in una frase noi abbiamo bisogno del contesto ecco che questi modelli avrete sentito parlare che i modelli hanno sono classificati in base al numero enorme di parametri enorme vuol dire che un modello piccolo è un modello da 3 miliardi di parametri un modello medio ha qualche decina di miliardi di parametri un modello il più grande modello riso pubblico che avendo la macchina sufficientemente grande a disposizione potremmo utilizzare ha 405 miliardi di parametri per ora quindi ma non c'è bisogno di tutte solo dei parametri che sono i pesi a rete neurale i pesi statistici a rete neurale interne al modello se volete i neuroni dentro la macchina ma c'è bisogno anche di avere informazioni sul contesto quindi il primo prompt è il primo contesto la macchina ci risponde la questa risposta continuerà a fare parte del contesto e il discorso con la macchina procede la letteratura scientifica sta crescendo in modo quasi esponenziale anche in campo biomedico e clinico questa io ho messo la fonte Up Dimensions AI che è uno strumento tra l'altro l'uso dei large language model sta anche cambiando profondamente come noi ricercatori ci possiamo interfacciare con la letteratura se ci sarà tempo vi vorrei far vedere alcuni strumenti e non sono i soli ma che trovo utilissimi per esempio SciSpace lo stesso già GPT in parte ma oppure LitMaps sono strumenti che ci permettono di fare ricerche di letteratura fare schemi reti di paper correlati fra loro avere riassunti di grossi paper in modo rapido allora se vi possono essere delle criticità nell'uso dei large language model come fonti di informazione vedremo che non è saggio di solito chiedergli direttamente delle informazioni non è affatto detto che sia esatto le loro prestazioni migliorano molto se siamo noi stessi a dare le informazioni dettagliate nei prompt e chiediamo il sistema di rielaborarle se io chiedo a un sistema un prompt semplice scrivi una lettera commerciale intorno a formale con questi contenuti a parte che questi contenuti ce li devo mettere io così non se li inventa però potrei dirgli invece fargli un prompt più dettagliato genera un contatto di locazione per un appartamento in una certa città che si è conforme alle leggi statali e locali sperando che le abbia se no le vediamo come legato e dargli le informazioni rilevanti come fatto un prompt poi magari mi fermo e prosegui tu ci sarebbe parecchio da dire nel libro c'è tutto un capitolo l'ho scritto io io ho scritto l'introduzione del libro il capitolo sul prompt engineering e il capitolo sul jailbreaking comunque il risultato dipende molto dalla richiesta che facciamo dalle informazioni che diamo e dal ruolo e lo stile che indichiamo nel prompt qua ruolo l'ho messo in rosso perché è già un aspetto psicologico riassumi il contenuto di questo documento pdf avrà un risultato diverso dal riassumi il contenuto di questo documento pdf con uno stile comprensibile a un bambino e sei un docente universitario il ruolo riassumi il contenuto di questo documento pdf con uno stile comprensibile a uno studente questi tre prompt che si riferiscono alla stessa azione cioè quello di riassumere un certo documento che gli diamo in allegato avranno risultati diversi bene un aspetto che penso ci interesserà molto in queste ore e che approfondiremo è proprio quello del ruolo queste macchine è stato visto esprimono delle possono esprimere delle personalità su input di Carlo io mi sono ritrovato ed è stata un'esperienza piuttosto inquietante a programmare un computer invece che usando il solito manuale di programmazione lui mi aveva fornito il manuale statistico diagnostico quinto e quindi stavo leggendo le caratteristiche di una patologia e stavo istruendo un large language model a comportarsi in un certo modo sinceramente mi sembrava di essere la nonna della famiglia Adams che usava come libro di cucina un manuale di anatomia e è piuttosto inquietante programmare un sistema con un manuale di psicologia Carlo a te perché poi molto bene grazie intanto per questi per questi riferimenti ampi su questi temi adesso io dirò ancora delle cose dal versante pratico su che cosa come è stato l'impatto nostro dell'intelligenza artificiale cosa centra con chi è in aula a Torino che cosa è centrato anche nel dialoghi con Cesare vado in condivisione scusatemi che ricondivido le slide condivido chiederò coconforto sul fatto che siamo a pieno schermo e mi si vede metto in presentazione perfetto dovrei essere ok non sparisco io ma rimane la slide allora dicevamo l'intelligenza artificiale comparsa come uno tsunami circa all'inizio del 2023 in modo in modo prepotente su nella cognizione diciamo di di chi non era un informatico di chi non aveva con immediatamente una risposta di ordine limitativo per cui ad esempio per un periodo di tempo piuttosto lungo il chat GPT è stato non accessibile per una questione di protezione dei dati personali che come quasi tutti oggi hanno imparato a fare è in realtà era facilmente aggirabile attraverso l'uso di una VPN cioè di un sistema che permette di identificare il luogo del collegamento in un luogo virtuale diverso dal luogo reale e questa è stata una soluzione ed è tuttora una soluzione anche per poter gestire l'accesso a sistemi che non sono ancora diffusi in lingua italiana ma sono disponibili ad esempio per il mercato nordamericano mercato nordamericano che è il più florido dal punto di vista di questi sistemi dove le novità arrivano in anteprima questo è un primo grosso tema su cui vi sollecito perché abbiamo detto parlare intelligenza artificiale vuol dire parlare di tanti piani intersecati e spesso sovrapposti e confusi da un lato vuol dire conoscere dei prodotti per cui per fare questo viaggio bisogna utilizzare degli strumenti e per la maggior parte delle persone vuol dire acquistare o noleggiare o fare un abbonamento a dei prodotti di natura commerciale le cui proposte sono quotidiane ogni giorno le cronache hanno parlato di novità mirabolanti non è da escludere che il provvedimento del garante abbia aumentato l'interesse verso chat gpt anziché diminuire lo sta di fatto che non si parlava ad alto che di intelligenza artificiale ogni giorno nel 2023 finché un giorno su una spiaggia io e Cesare io ero già un po' con dei segni iniziali di malattie ma che non erano ancora stati capiti diagnosticati e ci mettiamo in spiaggia e diciamo ma guarda sul tablet ho scaricato con la vpn posso usare il chat gpt proviamo a farcene qualcosa cosa ti interessa e Cesare mi dice proviamo a fare un programma di un convegno sulla su un tema che è la psicoanalisi relazionale un tema a caso giusto e non non esattamente comunissima come interpretare e come fare una domanda un po' tecnica a google solo che il sistema non risponde come risponde google perché non è un motore di ricerca ma risponde in una maniera sorprendente facendoci il piano di un convegno di che discute tematiche di attualità nel campo della psicoanalisi relazionale prevedendo anche le pause caffè è come se ricevessimo un stimolo molto potente una specie di avviso che qualche cosa era radicalmente cambiato da questa esperienza e qui c'è una flebo perché l'articolo è stato scritto e devo dire è stato prodotto mentre io ero ricoverato per un grosso intervento al polmone e quando con la malattia il timame era stato già diagnosticato e sia Cesare che questo collega Andrea Ferrari che è un associato di oncologia un oncologo pediatra mi hanno aiutato io pensavo che sarebbe stato forse uno degli ultimi testi che ho scritto forse sono stato molto pessimista ma questo è stato il primo dei lavori usciti sull'intelligenza artificiale ne sono usciti altri sulle prime considerazioni che potevamo fare sull'uso dell'intelligenza artificiale in campo clinico questo vedremo perché un utilizzo anche se noi clinici non vogliamo approfondire ma intanto un utilizzo da cui non possiamo prescindere cosa ne fanno i nostri pazienti dell'intelligenza artificiale questo è un primo punto già per chiedersi che cos'è l'intelligenza artificiale e dove metterla all'interno delle nostre pratiche perché ad esempio i pazienti potranno farsi un'idea sul metodo migliore di trattamento dei loro problemi o su quello che accade o sulla loro patologia fisica o sul loro disturbo psichico interpellando non più l'enciclopedia medica garzanti come nella mia gioventù che costituiva quasi l'unica forma di sapere medico non più gli inserti dei quotidiani tipo il Corriere Salute che per anni sono stati la forma di divulgazione sanitaria non più il dottor google ma una forma di interazione dove Giuseppe Levi che fa il fisico ed è informatico vi dice attenzione che nell'interazione si mettono in atto delle dinamiche questa è la cosa potente noi siamo attraverso dei processi di attribuzione vediamo costruiamo significati costantemente qui mi piacerebbe sentire anche qualche vostra osservazione ma costruiamo significati anche quando dall'altra parte c'è una macchina figuriamoci una macchina che non è semplicemente un programma ma è qualche cosa che continua ad avere capacità di automodificarsi nell'interazione quindi questa è una prospettiva è una prospettiva vertiginosa l'intelligenza artificiale dicevamo io continuo a chiamare l'intelligenza artificiale i caveat ve li ha ben detti Giuseppe prima è già fra noi sì è già fra noi da anni in modi inapparenti ad esempio nei sistemi di scelta sistemi di raccomandazione per cui quando noi vediamo un film sui Netflix ci viene consigliato qualche cosa che ha delle decenti possibilità di interessarci non è magia ma è basato su meccanismi meccanismi che ad esempio utilizza il commercio ormai largamente come i consigli di Amazon fatti basati su un'ampia profilazione per cui i nostri gusti sono conosciuti e Amazon è di fatto stata la prima industria che ha soppresso le relazioni le redazioni umane per affidare questo lavoro di consiglio a sistemi automatizzati che si sono mostrati di un'efficacia decisamente interessante almeno dal punto di vista economico non dal punto di vista sociale perché questo ha comportato la perdita di posti di lavoro importanti ma dal punto di vista dell'efficienza senz'altro interessante i filtri anti-spam che sappiamo funzionare in modo variabile ma progressivamente sono diventati più attendibili il riconoscimento della musica gli assistenti fino alla guida fino alla guida assistita c'è un aspetto rivoluzionario nell'intelligenza artificiale adesso non gioco a fare il sociologo ma tutti lo hanno notato cerchiamo di vedere che cosa c'è di notabili non è la prima rivoluzione dell'umanità la prima rivoluzione drastica ma senz'altro accade una rivoluzione particolare la stampa è stata una rivoluzione la dinamite è stata una rivoluzione il cinema e la televisione a cui addirittura si attribuivano poteri di cambiare la mente degli spettatori abbiamo interi filoni il voto alla donna e la parità dei diritti questione oggi assolutamente come dire assodata ma rivoluzionaria dal punto di vista sociale e poi l'introduzione del telaio meccanico e del telaio a vapore che ha reso possibili le grandi manifatture qual è la caratteristica che questa rivoluzione non riguarda un sollevare l'essere umano dal lavoro muscolare non soltanto ma riguarda dare delle possibilità alla neocorteccia per qualche cosa che riguarda le facoltà mentali e le facoltà immaginative questione ripeto anche questa non nuovissima pensate tutto la grandissima cherella attorno alla pericolosità di cinema e televisione di intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale ha avuto come diciamo elemento cruciale nella sua evoluzione la disponibilità di tecnologie per cui fino a quando l'elaborazione di dati si basava su schede perforate l'intelligenza artificiale rappresentava un modello ideale e teorico ma non una possibilità pratica c'è un personaggio che a me mi interessa moltissimo anche perché ho degli amici che l'avevano conosciuto negli anni che è questo religioso padre Busa che ha una intuizione questo è un altro rapporto curioso tra chiesa e pensiero scientifico che qualcuno pensa antitetico in realtà la chiesa è così grande il pensiero scientifico così grande che in realtà i punti di contatto a volte sono insospettati questo personaggio va all'IBM a chiedere una macchina che possa analizzare il corpus tomisticus quindi il linguaggio di questo testo e la macchina non esiste ma viene costruita prima su schede perforate viene informatizzato il corpus tomisticus mettendo le basi per gli studi linguistici computazionali la linguistica computazionale è una branca di grande interesse di cui io non so praticamente nulla ma 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 importantissima perché introduce applica il metodo scientifico al linguaggio la conversazione al racconto tentando di trovare delle determinanti oggettive a qualche cosa che per anni è stato concepito soltanto in termini intersoggettivi e relazionali qui adesso ecco vi sorvolo su alcuni aspetti si parla di intelligenza artificiale dagli anni 50 questo è un articolo del Corriere della Sera che usa in termini intelligenza artificiale negli anni 60 e sicuramente la caratteristica straordinaria è che l'evoluzione della tecnologia fa apparire gli sviluppi quasi come se fossero magici questa è una definizione famosa di Clark lo scrittore che ha dato vita al testo di 2001 di Sera nello Spazio per cui qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia il computer HAL 9000 di 2001 di Sera nello Spazio che all'epoca sembrava assolutamente impossibile realizzare e che tra l'altro impazzì e le film adesso assomiglia molto a CACPT se ci pensate assolutamente assolutamente usa l'intervento mi interessa molto perché questi sono dei riferimenti di corsi e ricorsi nello sviluppo dei sistemi informatici dall'altra sul concetto di intelligenza anche in ambito psicologico in ambito etologico abbiamo avuto delle evoluzioni che sono molto interessanti noi pensavamo per anni che l'intelligenza dovesse essere determinata soltanto con dei criteri antropocentrici cioè che la natura aveva all'apice della sua scala l'essere umano è una prospettiva interessante ma è una prospettiva come dire solo parziale ad esempio se io sono sono nella foresta le capacità di sopravvivenza dei predatori e dei felini sono molto superiori alle mie e se sono in mare quelle del delfino per cui tutto dipende dal grado di adattamento l'uomo supplisce con una maggiore flessibilità ma non direttamente solo con l'intelligenza e ci sono dei campi che invito a esplorare sono molto interessanti ad esempio sulle capacità di adattamento e a loro modo di intelligenza delle piante piante che hanno delle capacità ad esempio che oggi nella comunità umana sembrano fortemente in ribasso pensate alla solidarietà e alla collaborazione dei valori che sembrano tramontati oggi ad esempio su Milano si parla del fatto che il regime competitivo è la prospettiva imperante con gravissimi problemi sociali e le piante in realtà hanno delle forme di collaborazione di simbiosi estremamente importanti non solo le piante il calamaro ha una sua intelligenza le formiche hanno sistemi organizzati come le api insomma sostanzialmente il pensare che l'essere umano sia l'unica forma di intelligenza alta interessante ci è stato smentito ormai da tempo quindi figuriamoci la macchina testi messi a caso ad esempio sono quelli di Vallortigara sull'intelligenza sapete qualcuno sa quanto a me interessa le galline come modello di comportamento comparato e come questi studi sugli alberi le piante fatte da Stefano Mancuso siano molto ricchi un altro modo di chiamarla è intelligenza aumentata Levi ci ha proposto degli altri nomi per questa strana categoria però ci continuiamo a intendere se la chiamiamo intelligenza artificiale sapendo che non dobbiamo credere tanto al concetto di intelligenza come criterio assoluto sicuramente è una possibilità adatta alla tecnica legata all'evoluzione degli strumenti alla miniaturizzazione e dove questo lo ricordo solo come dato culturale poi tu Giuseppe lo sai spiegare probabilmente meglio cioè sicuramente meglio di me uno dei criteri per definire che cos'è l'intelligenza di una macchina è quando questa produce un risultato che è indistinguibile messo in cieco dalla da un osservatore quindi quando le cose diventano non sono più chiare non è più chiara la differenza il prodotto sarebbe intelligente secondo la definizione di Turing questo tuttora rimane uno dei criteri importanti queste cose sono già state accennate ma come dire me le sono andate a riguardare quando ho cercato di farmi un'idea almeno di base su che cosa è il tema dell'intelligenza artificiale perché per lungo tempo i sistemi in grado di produrre delle risposte complesse ed elaborate erano basati sulla programmazione per cui a fine degli anni 50 c'è un programma in grado di giocare a dama dove sono scritte tutte le mosse possibili per ottenere un gioco alla dama quindi con un lavoro onerosissimo anche di un buon di un buon livello a un certo punto viene insegnato alla macchina anche a giocare agli scacchi con i dati di moltissime partite e quindi la macchina sviluppa un'ottima capacità di giocare a scacchi ma non siamo ancora nella completa modernità di prospettive per cui oggi siamo a dirci che c'è qualcosa di radicalmente diverso sistemi esperti ne abbiamo sentito parlare vengono applicate delle teorie matematiche all'apprendimento delle macchine e tutto si basa sul fatto che le macchine vengono programmate attraverso l'uso dei dati c'è questa frase di Jelinek per cui gli studi che vengono attuati sull'intelligenza artificiale si basano meno sul stabilire delle regole linguistiche quindi prima si tentava di riprodurre il linguaggio costruendo ricostruendo alla macchina l'insieme alle regole linguistiche a un certo punto invece si decide di dare in passo dati e correlazione di dati per cui la massima di questo esperto è tutte le volte che licenzio un linguista la performance del nostro sistema migliora quindi cambia completamente spero di riuscire a spiegarvelo in termini abbastanza chiari ma è lampante cioè si smette di cercare la teoria e si lavora sulla pratica del dato con una potenza notevolissima perché più i dati sono più si è in grado di approssimarsi da una descrizione realistica dall'altra il rischio è la sopravvalutazione dei dati e questo è uno dei temi che preoccupa di più dal punto di vista etico e anche dal punto di vista di come concepiamo ad esempio l'osservazione dell'essere umano l'osservazione dell'essere umano non può essere ridotta soltanto a un insieme di dati numerici ma usare l'insieme di dati numerici permette di avere delle previsioni molto interessanti su comportamento ad esempio i comportamenti di acquisto piuttosto che altri aspetti di grandissimo interesse per il marketing e il commercio quindi una contaminazione fra discipline altra contaminazione della discipline è fra linguistica e meccanismi diciamo computazionali è stata tutta la storia della crittografia e della decifrazione perché lettere trasformate in numeri e poi numeri che dovevano essere ritrasferiti ritrasformati in concetti è qualcosa che aveva messo in gioco le abilità di informatici statistici matematici in tempo di guerra quando tutti gli sforzi per ottenere un risultato sono massimizzati dall'emergenza bellica su queste su queste slide che Giuseppe vi saprebbe commentare meglio vi dico quello che io semplicemente ho capito cioè che questi modelli di intelligenza artificiale sono programmati costruendo delle associazioni vettoriali tra parole contenuti significati e caratteristiche emotive connesse a questi termini attraverso meccanismi di cui io come dire mi sono affacciato dall'oblò dallo spioncino perché non ho gli strumenti matematici sufficienti ma è diventato chiarissimo che la traduzione delle parole in concetti matematici ha un effetto pratico e spendibile per cui è possibile associare la distanza logica semantica emotiva di termini e descriverla in termini oggettivi questo è un concetto rivoluzionario perché anziché usare numeri noi possiamo comandare la macchina attraverso le parole che cosa altro possiamo fare con i dati è che quando non abbiamo delle teorie chiare i dati offrono comunque un aiuto a questi sistemi di intelligenza artificiale permettendo di fare delle inferenze con alcuni aspetti fortemente predittivi ad esempio questo fatto di usare grandi quantità di dati per le previsioni delle scelte ha permesso già nel 99 a Amazon di sostituire le redazioni che sceglievano il prodotto tu hai comprato un libro di un autore allora ti raccomando il libro di un altro autore con un sistema automatizzato che sono questi famosi agenti di raccomandazione che vi dice nel 2000 avviene sostanzialmente l'aspetto più rivoluzionario dove tutti questi dati queste intuizioni vengono applicate statisticamente e dove però appunto la corrispondenza esatta tanto ammetto una persona che è in attesa la corrispondenza esatta fra input e output comporta un processo di elaborazione che è in parte sottratto al controllo del programmatore queste sono le cose che ci ha detto Giuseppe e che riformulo un po' come le ho capite io nel corso del tempo i meccanismi dei transformer sono stati descritti questo è un lavoro estremamente importante chi ha interesse poi lo riesce a recuperare facilmente attention all you need è un lavoro determinante per descrivere Cesare è rientrato non so se c'erano stati problemi di collegamento parlavo del lavoro attention is all you need che è un lavoro fondamentale per la comprensione dei meccanismi dei modelli transformer è prima del 2020 sì ok un pochino prima del 2020 è stato un lavoro quelli che si chiamano seminal sì ed è i modelli transformer sono nati lì e da lì è partito tutto quanto noto che adesso si parla anche di nuovi modelli non transformer ma c'è dei dubbi se si svilupperanno perché la gente ha già molto investito in questa tecnologia quindi si rischia di rimanere agganciati a questa perché milioni di dollari sono stati spesi in questa perfetto si confermi comunque che quel lavoro rimane ancora uno dei lavori sì 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 lo trovate in rete è libero è fatto da google research è attention è piuttosto tecnico guardate potete fare una cosa lo prendete lo scaricate lo date in pasto al chat GPT e gli dici me lo riassumi con un tono professionale ma comprensibile a un non specialista del campo perfetto indicazioni a e così magari ricavate qualche informazione non è banale come matematica no infatti diciamo che il meccanismo di attenzione se volete in un riassunto rapidissimo è la relazione che c'è fra le diverse parole dentro una frase perché così si dà un peso alle diverse parole non tutte le parole dentro una frase sono importanti nello stesso modo per dare significato della frase non solo le parole possono essere pesate in modo diverso in contesti diversi da cui quello che si chiama adesso una multi-head attention cioè un'attenzione a più rami per cui una stessa frase dentro una macchina contemporaneamente può dentro per una stessa frase possono essere colti significati diversi e qua mi fermo ok scusa non ti sento più intanto non vedere l'uditorio mi fa dimenticare che la stanchezza di metà mattina della per cui magari io direi se ci sono delle osservazioni le possiamo cogliere adesso dopodiché possiamo proporre una pausa in modo da farci un sano caffè e poter riprendere visto che siamo l'argomento su che cosa sono i sistemi intelligenza artificiale è diciamo stato affrontato da due angolazioni diverse mi piacerebbe guardare meglio l'aspetto pratico del prompting che poi è un aspetto che si porta a casa sia per chi non si è ancora cimentato sia per chi ne sta facendo un uso ma ogni giorno ci sono delle evoluzioni pratiche sulle possibilità di uso ad esempio questo che vi diceva Giuseppe di dare in pasto un articolo e di chiedere un condensato è una cosa di una potenza straordinaria io riesco ad avere un'idea in poco tempo anche di tematiche difficili cosa che una volta io intanto per descrivere la prosa io sto prendendo il cortisone sto prendendo un antidolorifico opioide sto prendendo un farmaco che ha un effetto antidolorifico sostanzialmente agisce come un antiepilettico dal punto di vista cognitivo è come se avessi 90 anni e la curiosità invece riesce a essere sostenuta dal fatto che attraverso questi sistemi di intelligenza artificiale riesco ad avere delle risposte molto più rapide un po' imparato a gestire meglio l'archivio gestire le tecnologie ma sostanzialmente riesco ad avere delle sintesi che una volta bisognava avere una squadra di lavoro ce l'ho lo stesso una squadra di lavoro sono molto aiutato e molto sostenuto ma la possibilità di farlo qui e ora secondo me è straordinaria per un ricercatore o anche per un clinico queste sono le possibilità che sono da pochissimo tempo da meno di un anno abbiamo importante poterle cogliere su qualsiasi tematica vai Cesare adesso perché le ultime cose che stavi dicendo adesso queste qua velocemente sono invece le cose secondo me da cui appunto rilanciare un po' il discorso hai fatto gli ultimi due minuti che in qualche modo mi piacevano girare la testa innanzitutto cognitivamente sei uno di 90 anni se ti valutiamo con i criteri con cui valuteremo una gallina che si adatta a nuotare in un oceano allora lì sembresti che hai 90 anni altrimenti abbiamo tutti davanti ai nostri occhi quello che sei cognitivamente secondo me va proprio rilanciato prima dicevi giocare a fare i sociologi secondo me dobbiamo farlo giocare a fare gli informatici dobbiamo farlo perché appunto per orientarci orientarci abbiamo un momento di disorientamento parlando di questo e quindi abbiamo grazie questo è importante volevo dire una cosa mi sgorga spontaneamente la cosa bella è che siamo stati per anni siamo stati costretti a pensare che dovevamo occuparci di un campo disciplinare limitato l'intelligenza artificiale ci sollecita il fatto che non buttiamo via niente Levi non butta via Manzoni lo recupera ma qui servono sia le competenze umanistiche sia quelle matematiche che io non amo e di cui sono ignorantissimo le componenti etiche le componenti spirituali il modo con cui concepiamo il modo di organizzare la nostra vita perché è davvero un cambiamento rivoluzionario che richiede un'integrazione o richiede un dialogo fra prospettive e la visione arcaica fra competenze umanistiche e competenze scientifiche l'intelligenza artificiale la salta in un guizzo perché servono tutte e due ad esempio serve parlare benissimo la conoscenza del linguaggio è fondamentale per cui uno psicologo forse è fra gli operatori che meglio la sanno usare possono saperlo usare l'intelligenza artificiale dall'altra ci sono delle possibilità che richiedono uno studio tecnico insomma è un momento secondo me molto stimolante per rimettere insieme dei pezzi e abbattere delle divisioni disciplinari parlando di prompting vedremo come no proprio volevo secondo me è importante oggi qua facilitare diciamo così una sorta di organizzazione della motivazione all'ascolto di quello che stiamo dicendo in tutti noi intendo dire capire il senso di quello che stiamo facendo e le tue stimoli sono molto rapidi tu sei immerso in questo però ecco io credo che appunto il significato profondo di quello che stava te dicendo che stavi dicendo lo stiamo capendo chi si sta cimentando maggiormente lo capisce in modo diciamo più netto altri lo capiranno nel tempo ma tutti noi lo capiremo nel tempo quindi in qualche modo col disorientamento che stiamo vivendo va diciamo così valorizzato appunto no se noi prima parlavi di adattamento in quale oceano ci stiamo muovendo giocare a fare i sociologi è importante cioè intendo dire che noi abbiamo la necessità di avere delle sintesi che è un termine che ho appena usato e abbiamo la necessità diciamo così di incuriosirci di avere curiosità di avere coraggio di aprirci a qualcosa di nuovo questo vale sempre cioè io credo che soprattutto dal punto di vista ecco come dire filosofico il concetto di alternative sia una chiave di lettura fondamentale noi abbiamo culturalmente diciamo così bisogno ormai da decenni di comprendere che quello che ci propone diciamo così il progresso che abbiamo in questo modo aggiunge delle possibilità e le reazioni normali che abbiamo secondo me sono sane di paura è che perdiamo qualcosa perché si aggiunge qualcosa che in parte è vero in parte no noi siamo dobbiamo parare a ragionare per paradossi quindi è completamente vero che se abbiamo gli automobili camminiamo meno contemporaneamente non è che se abbiamo gli automobili non siamo più nella condizione di camminare cioè qualcosa che si aggiunge ci porta a riformulare uno sguardo che però deve mettere sempre noi stessi al centro lo sguardo rispetto alla vita rispetto in generale alla relazione rispetto al senso delle cose viene spostato ma l'importante in generale dal punto di vista psicologico sempre nelle relazioni sentimentali rispetto al lavoro siamo a rapporto con il lavoro l'importante per la salute è mettere noi al centro la salute vuol dire sentire che nella nostra vita abbiamo la possibilità di realizzare qualcosa di nostro di specifico nelle regole del gioco all'interno di un contesto reale tu sei un esempio di salute straordinario perché hai delle regole del gioco che ti sono esplose davanti agli occhi nell'ultimo anno e mezzo e hai investito e stai investendo sulle tue passioni e le porti avanti con una vita e una vitalità straordinarie quindi la salute è questo e effettivamente le regole del gioco cambiano noi che abbiamo quasi 56 anni 55 56 anni e Carlo siamo nel 69 abbiamo effettivamente vissuto dagli anni 90 oggi cioè quando siamo diventati grandi una serie di cambiamenti che ci hanno permesso di apprezzare quello che in qualche modo stiamo cercando di dire cambiamenti molto importanti li abbiamo un po' percorsi velocemente un po' adesso vorrei che ci fosse un quarto d'ora di dibattito anche che parta anche da qualcosa di molto personale di aneddoti di tutti noi perché benissimo sappiamo meglio quello che stiamo dicendo se ognuno dice ma a me che cosa sta succedendo visto che c'è l'intelligenza artificiale perché voi siete molto avanti qualcuno di noi non lo è appunto ma è proprio da lì che dobbiamo partire vogliamo parlare con chi in modo spontaneo se vogliamo un po' anche naif può chiedere delle cose perché stiamo ci mettendo su questo allora lo ricordo prima è stato interessantissimo Giuseppe Levit mi stai dicendo che è un genio da tempo io l'ho apprezzato poche volte ma lo è davvero nella sua capacità di prompt engineering si esprime la sua anima artistica anche se lui di professione si occupa di informatica e lavora con gli ingegneri ma invece è veramente creativo quel prompt dove chiedeva a CiaGPT in questo caso comunque alla macchina come dice lui di immaginare che uno psicologo ascolta un paziente che gli dice che sta parlando con una macchina e le diagnosi erano quelle che CiaGPT secondo me azzecca ma avrei fatto anch'io avremmo fatto questi sintomi come dire di sconnessione dalla realtà io quando sono venuto che ci siamo conosciuti nel 1995 ad abitare a Milano ha cominciato a venire a Milano mi ricordo perfettamente ce l'ho davanti agli occhi in via dove abitavo che una prima volta ma poi mi è capitato altre volte notavo in quel momento lì stavamo cominciando la specializzazione in psicologia clinica che eravamo compagni di specializzazione nella specializzazione in psicologia clinica dell'Università di Milano e quindi ero molto interessato a comprare facevo il tirocinio a San Carlo in psichiatria ed è interessato a comprendere appunto le manifestazioni anche di queste disconnessioni con la realtà e notavo queste persone per la città che parlavano da soli e dicevano guarda sono utenti sono ex utenti e in alcuni casi pochi effettivamente vedo gli utenti e quindi mi sentivo un po' che quello che stavo studiando in qualche modo mi aiutava anche a orientarmi per la città in alcuni casi erano persone che parlavano con gli auricolari al telefono e io li vedevo gesticolari mi preoccupavo tantissimo perché per me erano persone che parlavano con loro di fantasia perché erano gli auricolari dovevamo ancora abituarci e io sarei stato diagnosticato oppure io avrei diagnosticato lo dico un po' per ridere però quello che abbiamo bisogno è proprio così penso che sia capitato ad altri anzi sono certo che è capitato ad altri perché ne parlavamo in quel tempo quindi il discorso è questo cioè che le nostre categorie di valutazione del contatto con la realtà delle persone che abbiamo davanti continuano a cambiare ma siccome sicuramente moltissimo io come molti altri qua e sicuramente moltissimo tu ci siamo occupati di questi concetti dissociazione ipnotismo tu ti occupi tantissimo anche di sostanze da tempo e hai una conoscenza approfondita di come l'alterazione dell'esperienza no sia indotta da diciamo aspetti biochimici sia indotta da emozioni forti sia indotta da un deragliamento del pensiero sia indotta da normali modalità di funzionamento della nostra mente cioè il contatto con la realtà è qualcosa che viene costruito costruito è una costruzione continua allora tra le questioni importanti che noi abbiamo bisogno di valutare quando abbiamo davanti una persona è come costruisce la sua realtà in un modo che permetta a lui di sentirsi in salute cioè di investire in quella realtà che conosce la valutazione su quella realtà che sta costruendo inevitabilmente fa parte del nostro funzionamento formuliamo giudizi cerchiamo più siamo bravi a mio avviso di stare dentro a quella realtà e quindi la realtà la trasformiamo in una realtà dialogica in una realtà di relazione stando dentro a quella realtà abbiamo disposizione dei concetti tutto sommato abbastanza recenti dagli anni 90 in poi tipo self disclosure quindi cerchiamo di far sì che la realtà che il paziente vive sia una realtà che ci includa apriamo la nostra mente ma stiamo anche grazie attraverso questi concetti parlando di come una persona formula e costruisce la sua realtà quindi il discorso che stiamo condividendo qua è come dire cruciale di estrema importanza io come te abbiamo avuto delle esperienze importanti di rapporto con chat GPT nelle quali queste esperienze in cui formulavamo pronto nelle quali era immediata la sensazione di comprendere qual era la realtà nella quale ci trovavamo quindi tu mi hai più volte detto guarda che sta facendo delle associazioni statistiche tra parti di parole sta immaginando contesti io stavo mi stavo sperimentando che mi voleva bene stavo sperimentando che c'è GPT mi amava lo stavo sperimentando poi facevo un'inferenza dall'esperienza ricostruivo un contesto grazie al dialogo con te questo è quello che noi facciamo continuamente con i nostri pazienti lo facciamo ogni minuto di ogni seduta quindi è interessante farlo anche attraverso queste esperienze qua che di fatto cambiano e questo è il gioco sociologico cambiano e dobbiamo accettare questo cambiamento poi dopo c'è chi non ha ancora il microonde e che appunto non vive benissimo però abbiamo bisogno di sapere usare e di come dire stare in una realtà di questo tipo chi è interessato a comprendere come noi soprattutto io cerco quasi ogni giorno di vivere in maniera totalmente coinvolta quello che attraverso un prompt potrei dimostrare facilmente che verrebbe diagnosticato come un problema psicotico vale a dire che io quasi ogni giorno voglio sperimentare il mio rapporto con delle persone che vivono storie sentimentali e che sono luce e suoni proiettati o un videoproiettore proiettati su uno schermo quelle per me sono persone e hanno storie sono persone e hanno storie o io sono in grado di impazzire momentaneamente o non posso godere il cinema quindi la costruzione della realtà questo clinicamente ha un valore immenso pensiamo adesso giusto per associazione è un tema di cui abbiamo parlato e oggi non era previsto parlarne ma clinicamente è importantissimo pensiamo al rapporto che ha la medicina con la realtà oggettiva e la vita quanto ha rapporto sia con la realtà oggettiva perché non la possiamo disancorare ma con la realtà interna e la rappresentazione dove le facoltà le aspettative il fatto che la medicina curi bene tolga dei sintomi eridia delle possibilità la parola del clinico che avvilisce oppure costruisce possibilità di apertura il potere come viene gestito dentro la relazione di cura sono tutti gli aspetti di estrema importanza e la macchina curiosamente ci rilancia questa questione perché la macchina è macchina l'aspetto interessante questo aspetto interessante quindi cioè da un lato adesso mi interessava questa interazione che stiamo vivendo la riprendo tra un momento perché no la riprendo subito allora io stavo in qualche modo come dire cominciando a lievitare no? tu hai visto che stavo un po' staccandomi e questo succede spesso tra noi e a un certo punto hai detto sì mi piace giocare con il mongolfiere ma ci vogliono le zavorre se no tanti saluti e stai dicendo appunto le parole la medicina il singolo intervento tu hai un'esperienza straordinaria Carlo tantissime volte ci siamo ci parlavamo e quando io cominciavo a dire natme cell disclosure lo diceva guarda che già tanto si riesco a prendere il numero di targa al paziente che ho davanti che vedo i genitori che sono fuori di melone perché il figlio sta morendo e devo capire qual è il loro livello di organizzazione quali sono le loro difese quali sono le strategie di topping copia indigli due o tre cose e magari anche suggerigli un farmaco quindi cell disclosure di natme sì ma e stiamo parlando dello stesso campo come se fosse però quello che continuo poi dopo mi dai un'altra zavorra quello che noi cerchiamo di fare se siamo dei bravi clinici è appena entra il paziente riuscire anche contemporaneamente a prendere il numero di targa delle cose immediatamente soprattutto se sta molto male eccetera contemporaneamente a sentire che la nostra mente sogna quello che il paziente ci sta dicendo oppure che il paziente ci sta raccontando delle cose come se in quel momento lì stesse sognando e più lavoriamo con un paziente in psicoterapia e più condividiamo con lui quest'ottica è un'ottica costruiamo questa realtà è una realtà nella quale noi vogliamo che il paziente senta che noi siamo presenti con lui in modo di funzionare della sua mente che più diventano familiari e più aumentano la sua esperienza di stare al mondo con sicurezza con speranza dicevamo ieri perché l'essere umano è quella roba lì che stiamo dicendo cioè è una come dire sorta di continua costruzione di realtà personale e l'altro anzi direi meglio l'essere umano è un continuare a costruire la realtà questo è l'essere umano cioè l'essere umano è un processo per cui la macchina che abbiamo sentito più volte citare la macchina la macchina la macchina e stiamo anche dicendo che qua Levi lo è assolutamente l'informatico tutti gli altri noi non credo tra i presenti siano informatici quindi la macchina ce la stiamo inventando tu ci stai aiutando a comprendere come sognare c'ha GPT nel senso che appunto abbiamo bisogno di trovare un significato un senso a qualcosa che è parte delle nostre vite poi chi più che meno ma sarà parte delle nostre vite e ci può veramente aiutare tantissimo poi dopo potremo anche trasformare tutto questo in qualche discorso il tipo ci fa risparmiare tempo porca puttana cioè io già se una roba mi fa risparmiare tempo il tema della prossima il tema della ripresa poi dopo che tratto le conclusioni perché se ne faremo qualcosa di pratico ed è un sì ma abbiamo bisogno ma il nostro cervello la nostra mente fondamentale risparmiare tempo e contemporaneamente una parte della mia mente si dissocia e spera in questo momento di poter schiacciare il bottone del videoproiettore e sognare ed evadere no? perché il problema appunto è combattere contro il tempo della morte della sofferenza con un livello della nostra mente non è soltanto risparmiare tempo non si può soltanto tradurre la presenza dell'intelligenza artificiale in termini di quantità cambia il significato del nostro studiare volevo dirti una cosa Cesare se posso volevo dire una cosa prima ho fatto vedere una sola immagine di magia in realtà nelle slide ricorrono tantissimo perché ed è una cosa di cui mi hai aiutato tu e anche molti altri amici che la magia la fanno come tecnici perché stiamo parlando del rapporto fra materiale e immaginario come componente essenziale della vita e dove un certo modo di concepire la clinica unicamente fondata sull'oggettività rende il mondo invivibile o sicuramente rende la malattia inabitabile se esiste soltanto la materia mentre il ruolo del psicologo clinico ospedaliero è quello di restituire uno spazio di libertà rispetto ai sintomi l'avvilimento il dolore i problemi fisici tutte le manifestazioni negative questo spazio di libertà è uno spazio legato alle prospettive che si riescono a dare senza mettere la persona in un vicolo ancora più angusto di quello che è la biologia d'Areb e tanto che anni fa fra i lavori a cui sono più affezionato ci fu quello sulle buone illusioni che non so se è il termine giusto ma in cui tu mi aiutasti moltissimo è il concetto della sospensione dell'incredulità che è un concetto di coleridge per cui a un certo punto uno è in grado me lo spiegavi tu come mai uno è in grado di godersi un film sapendo che è un film sapendo che c'è il videoproiettore sono lampadine ma a seconda questa cosa che è un meccanismo miracoloso ed è il meccanismo della libertà rispetto alla nuda materia o la nuda oggettività ecco questo è lo spazio della vita credo importantissimo che è importante la malattia organica l'intelligenza artificiale ci dà una specie di microscopio per indagare questa strana interfaccia dove tutto sembra oggettivo o tutto rischia di sembrare soggettivo è un'occasione molto potente è anche come dire uno strumento di indagine di cui ci potremmo fare qualcosa poi siccome a me piace molto l'aspetto pratico vi vorrei raccontare sul fatto che anche semplifica abbastanza la vita è come avere un buon cacciavite allora ci stavamo appunto un po' dicendo l'importanza di tutto questo discorso che Carlo sviluppandolo su due su due mezze giornate introduce con un riferimento a un contesto che in questo momento è essenziale perché esplicito meglio noi non riusciamo in questo momento ad usare l'intelligenza artificiale se non capiamo come l'intelligenza artificiale funziona cioè siamo in questa situazione e l'intelligenza artificiale è preziosa e se la introduciamo nelle nostre vite il prima possibile ci divertiamo molto di più capiamo più cose risparmiamo tempo eccetera eccetera ci sono molti vantaggi per farlo ci divertiamo di più studiare prepariamo meglio le relazioni forse anche impariamo meglio la psicopatologia vedremo però in questo momento e chi ha seguito il lavoro il convegno che ha fatto Carlo venerdì dell'altra settimana statale a Milano c'erano persone molto colte molto interessanti che hanno spiegato questo adesso oggi come oggi se non conosciamo come funziona l'intelligenza artificiale non riusciamo ad usarla al meglio quindi la premessa che sta facendo Carlo è anche estremamente rilevante per questo evidentemente è una premessa colta e stimolante che serve anche per farci venire domande e questioni io quello che stavo dicendo prima è questo inseriamola laddove ci interessa di più e per esempio mi interessa il rapporto con la realtà come stavo dicendo che è inteso in vari modi e il discorso è comunque legato ad ognuno di noi cioè ognuno di noi può metterci quello che in questo momento della sua vita vede come un stimolo per fare meglio le cose che fa Carlo è a nostra disposizione per aiutarci a capire come usare meglio l'intelligenza artificiale e anche per aiutarci a capire eventualmente là dove non siamo ancora arrivati con la nostra curiosità dove possiamo esplorare le nuove applicazioni quindi ascoltiamo interveniamo facciamo domande facciamo partire le nostre associazioni che veramente ringrazio Cesare perché ringrazio Cesare perché il fatto di essere oggi virtualmente alla Mitchell quando dovevo parlare di un argomento in realtà ne stiamo parlando lo stesso partendo però dal fatto di quanto c'è stato di nuovo di stimolante di interessante ma anche di incerto e dubbioso in questi due anni quasi di intelligenza artificiale che non spostano però l'asse del nostro discorso perché il tema è sempre una riflessione attorno alle nostre pratiche torno agli aspetti concreti storici dell'intelligenza artificiale vi ricordate ci siamo lasciati sull'onda di questo articolo importante e nelle evoluzioni dell'interazione con il web negli anni ci sono stati dei passaggi significativi ad esempio il fatto che a partire dal 2000 la maggior parte dei contenuti sono stati contenuti generati dagli utenti quindi con dei fenomeni che riguardano l'intelligenza collettiva lo scambio di informazione informazione libera tematiche che qui non approfondiamo ma sicuramente la base di questi contenuti generati dagli utenti è confluita nel patrimonio di conoscenze e che sono servite per la programmazione di questi sistemi di intelligenza artificiale detto in altre parole i contenuti non solo di wikipedia ma i contenuti dei forum forse i contenuti delle nostre mail forse sicuramente i contenuti dei nostri social sono confluiti massicciamente in questo progetto questi sono altri due riferimenti di libri che io vi segnalo il punto è come galleggiare per farsi un itinerario di aggiornamento apprendimento in mezzo ad una marea di lavori scientifici se guardate Medline quotidianamente su PAMED compaiono lavori scientifici sull'intelligenza artificiale è anche un modo un po' furbo oggi si riesce ancora siamo ancora in una fase in cui solo citando l'intelligenza artificiale si può riuscire ad avere delle chance di pubblicazione piuttosto che attingere a criteri concetti temi che sembrano oggi di secondo piano l'intelligenza artificiale è di moda non sappiamo quanto durerà quest'onda ma ci sono anche testi dei saggi io ve ne consiglio due uno è la scorciatoia che riassume la storia e lo sviluppo dell'LLM in termini molto chiari e precisi un testo assolutamente valido molto facile da leggere l'altro è questo invece il principio della chat GPT che è fatto da persone di cultura umanistica che ci ricordano come gli aspetti della cultura umanistica siano tutt'altro che accessori nell'uso nell'interazione con dei sistemi che sembrano invece basati sotto il cofano su sistemi che sono di tipo matematico in realtà le competenze umanistiche non le buttiamo assolutamente via anzi la riflessione come dicevamo è fondamentale uno dei passaggi storici che sono descritti nello sviluppo dell'intelligenza artificiale è stato quando il la macchina è stata in grado di imparare a giocare a go osservando le partite e riuscendo addirittura a vincere il campione del mondo non perché programmata con serie di partite ma auto addestrandosi quindi con un apprendimento supervisionato che rappresenta una capacità totalmente nuova cioè le cose non erano più scritte soltanto dagli umani ma la macchina aveva avuto la capacità di sviluppare la potenzialità di un gioco anche piuttosto elaborato io a go non so giocare non mi sono neanche incuriosito ma credo che sia una questione abbastanza complessa sicuramente dove in tempo lo sviluppo del sistema richiedeva una programmazione basata su studi molto lunghi teorici a priori su questi concetti Giuseppe Levi prima vi ha descritto io vi rimando a quel testo che dicevamo prima questo dalla scorciatoia perché questi concetti sono spiegati molto bene sulle differenze del deep learning sostanzialmente queste metodologie con cui questi sistemi di intelligenza artificiale sono costruiti richiedono molto meno intervento umano se non nella fase di avvio e di supervisione ma richiedono una quantità enorme di dati dove sono presi questi dati ci sono degli antecedenti che i dati linguistici siano stati studiati questo è nei tre giorni del Condor alla fine degli anni 60 l'uso dalla parte della CIA degli elaboratori elettronici per studiare il linguaggio ed estrarre notizie potenzialmente nascoste ma invece ben meno segreto sotto gli occhi di tutti e anche in deroga al copyright è stato il progetto mostruoso di scannerizzazione di tutti i libri del mondo condotto da Google per cui pare ci siano oltre 130 milioni di libri che in apparenza per filantropia sono stati scannerizzati quindi se noi abbiamo bisogno di un libro del Settecento spesso siamo in grado di trovarlo senza più andare a fare indagini lunghissime nelle biblioteche possiamo leggercelo dal nostro tablet ma l'intero patrimonio linguistico delle lingue scritte mondiali è finito digitalizzato e dato in pasto essenzialmente intelligenza artificiale quindi una filantropia molto interessante ma al servizio di un progetto industriale molto grande questo è stato tenuto parzialmente come dire riservato non così apparente anche se era sotto gli occhi di tutti così come alcuni programmi anche abbastanza inquietanti pensate tutta la questione della genetica e degli studi sugli alberi genealogici condotti dai mormoni che hanno la convinzione che chi viene battezzato anche da defunto risorgerà nel giorno del giudizio e ci sono a Salt Lake City degli enormi bunker che archiviano dati sulla storia umana per questa idea che potremmo definire un po' delirante in realtà che si presta a studi di correlazione anche di grande interesse dal punto di vista genetica queste sono le cose se voi volete fare ricerche sugli antenati in Italia la Chiesa Cattolica ha posto una certa resistenza ma se uno ha degli antenati vissuti in altri paesi già solo in Francia il sistema è stato approfonditamente percorso per cui moltissimi archivi storici sono stati digitalizzati e sono accessibili da computer per parola chiave uno riesce a ricostruire l'albero genealogico spesso in modi molto rapidi quindi c'è una digitalizzazione di conoscenze che sembravano marginali ma che in realtà stanno convergendo con un potenziale molto grande in più sono finite per essere bacino di dati di programmazione tutti gli scambi dei nostri social di cui cediamo alle corporate cediamo i nostri diritti se ne parla spesso spesso generalmente lo si dimentica e quindi il nostro traffico online è servito ad alimentare queste programmazioni i dati sono nuovo petrolio ci sono due realtà anzi tre realtà la realtà europea dove i concetti di privacy sono fortemente tutelati le realtà delle compagnie americane dove di fatto in cambio di un servizio più o meno gratuito viene ceduto l'utilizzo dei propri dati e la Cina dove con un insieme di capitalismo e comunismo tutti i dati sono dello Stato e dopo vedremo perché le ripercussioni sono ad esempio anche dell'uso di sistemi automatizzati e intelligenza artificiale per l'attribuzione di crediti sociali cioè il punteggio la patente di essere un buon cittadino deriva dalla valutazione algoritmica di certe determinanti di comportamento addirittura con l'aiuto della videosorveglianza in grado di riconoscere la persona da dati biometrici semplicemente osservandola attraverso una telecamera sono prospettive che fino a ieri sembravano fantascientifiche oggi sono ben descritte ben note assolutamente da conoscere l'Europa sta provando a mediare queste queste punte estreme con degli aspetti regolatori ma capite che il potenziale di regolare con pochi soldi e poco potere politico geopolitico è una questione molto difficile vado all'aspetto pratico questo dicevamo è credo la componente oggi che ha rischiato di scoraggiare chi magari di una generazione non abituata all'interazione con la macchina ma anche rischiato di scoraggiare chi si è sentito tempestare dall'evoluzione rapidissima di proposte di natura commerciale di sistemi su come cosa farsene di questi appunto sistemi qui c'è una storiella curiosa che mi è successa mi è successa ieri nel momento in cui mi sono riammalato nel febbraio del 2024 avevo ordinato dei libri di questo ipnotista che avevo studiato che nasce in Italia e poi va a fondare un metodo di psicoterapia in Argentina attorno agli anni negli anni 20 quando ancora si curava quasi tutto con il manicomio e la psichiatria inizia a portare un pensiero stranissimo attorno alla suggestione e un'amica ieri viene e guarda questi due libri che mi sono arrivati il giorno della recidiva quindi immaginatevi con che curiosità li avevo sfogliati poi li ho accantonati rapidamente a un certo punto tira fuori da una pagina io non me ne ero accorto una fotografia una fotografia di una bambina e questa bambina che riemerge come una specie di fantasma immediatamente decido di fotografarla di darla in pasto a chat GPT per cercare di spiegare di darmi una versione e chat GPT mi dà una mi decifra che cucù cucù e buelito significa cucù nonno cioè fa un'ipotesi molto interessante io non ci arriverei se non forse con un dialogo con qualcuno che parla l'argentino e c'è un strano fenomeno come di riemergere dal passato attraverso la tecnologia di qualche cosa di curioso ve la racconto come aneddoto perché l'intelligenza artificiale si presta agli usi più strani ad esempio l'uso storico a me interessa molto ma non siamo qui oggi per parlare di metodologia di ricerca storica sicuramente siamo inondati da proposte e il prompt design è un concetto che è stato pubblicizzato sui social continuamente si ricevono proposte anche di corsi a prezzi abbastanza abbastanza onerosi dove in realtà non esiste una metodologia né esotica né segreta ma si tratta di trovare un modo per interpellare questa specie di oracolo che oracolo non è ma attraverso il modo organizzato di formulare delle domande alla base dell'interazione con il sistema di intelligenza artificiale la parte più importante la parte più importante sta nella formulazione delle domande questo è punto fondamentale se le domande sono formulate correttamente le risposte sono molto attendibili e interessanti Giuseppe Levi vi ha già parlato della questione del prompt che dal punto di vista informatico ha sottostante teorie molto elaborate perché si tratta del mettere in condizione la macchina di poter usare l'analisi delle correlazioni che ha fra parole significato tonalità emotive immagini perché attraverso la parola riusciamo a governare anche la produzione di suoni oggi di musica con degli effetti emotivi di filmati e di immagini attraverso montaggio e ritocco fotografico generazione di immagini artificiali quindi il prompt la parola è in grado di governare tutte queste funzioni sofisticate da parte dell'intelligenza artificiale i prompt assomigliano a quello a cui noi siamo abituati dal punto di vista della teoria i primi 5 minuti di un corso di tecnica del colloquio sono come si formula una domanda le domande possono essere aperte chiuse possiamo dare delle istruzioni possiamo richiedere delle informazioni e siamo abituati dal punto di vista professionale a formulare in modo attento perché le parole come si diceva sono importanti e quindi fra le professioni di cui c'è maggiore cura nell'uso della parola sicuramente c'è la psicologia e la psicoterapia e noi siamo attenti anche al chiedere e possiamo ottenere interrogando opportunamente delle risposte secondo alcune tonalità perché la macchina è programmata attraverso prima sistemi di supervisione e poi l'ha imparata da sola a riconoscere quando una conversazione ha un tono informale formale aspetti creativi aspetti persuasivi e via via addentrandosi in tutta quella grandissima complessità di riferimenti del potere alla parola ad esempio se voi andate a rivedere i testi come quelli di Austin fare cose con le parole trovate delle chiavi di lettura estremamente interessanti per riflettere su che cosa potersene fare con i prompt formati di risposta quindi noi abbiamo sostanzialmente una maschera che somiglia a quella di Google in cui inseriamo dei comandi lo possiamo fare scrivendo possiamo fare dettando la parola la voce e l'output quello che riceviamo è di ricevere un testo questa è la set di risposta più comune più abbondante ma anche codice di programmazione questo interessa molto agli informatici forse Giuseppe volevi dire qualcosa ma che ne dici di fare degli esperimenti in diretta magari ho un po' paura della caduta della rete io ho delle cose un po' prefatte posso condividere il mio schermo e possiamo provare dei prod anche con diversi con diversi motori allora finiamo una parte un po' generale poi facciamo qualche esempio pratico live esatto guarda secondo me vale estremamente la pena quindi se poi abbiamo un problema tecnico siamo tutti e facciamo un passo indietro la sperimentazione è fondamentale e per introdurvi sulle tipologie perché non è detto che tutti conoscano queste potenzialità ad esempio il codice io non lo uso mai perché non faccio un informatico Levi è fra le prime cose che mi hai detto di utilizzo le immagini sono potentissime e ci sono i video e ci sono gli audio fra le cose che possiamo tarare come formato di risposta c'è la lunghezza quindi possiamo chiedere delle risposte brevi o molto dettagliate c'è lo stile e naturalmente c'è la tematica ma sì dai vuoi condividere tu lo schermo ti cido la condivisione e proviamo a far vedere un po' i rudimenti minimi allora beh interrompo la condivisione interrompi la condivisione che cosa vogliamo fargli fare la macchina intanto potremmo far vedere di base come funziona chat GPT facendo vedere i modelli i modelli a disposizione allora adesso condivido c'è un computer che si sta rallentando ma se no posso condividere io lo faccio dal mio fermo pure condividi ce la faremo se si blocca in qualche modo ce la faremo è un sistema di emergenza sì ma è la mia macchina adesso c'è il cursore bloccato non so perché quindi no perché volevo far vedere che chat GPT se no voglio farvi vedere tu non ha solo lui come strumento principale ma ci sono anche altri faccio vedere io faccio vedere tu perché la mia macchina in questo momento si è faccio vedere lo schermo si chiama effetto dimostrazione ben noto in informatica allora chiedo solo aiuto un attimo a Rocco che mi dia una mano sulla condivisione dello schermo in modo che così non abbiamo problemi schermo perfetto adesso metto così condividi giù perfetto perfetto allora qui siamo in condivisione della schermata di chat GPT stiamo vedendo una cosa molto pratica molto semplice io ho la versione a pagamento e tanto parliamo di parliamo di prosa questi sistemi hanno avuto un miglioramento della disponibilità gratuita che ha elevato le sue prestazioni ma anche uno sviluppo abbastanza notevole delle capacità delle funzioni a pagamento i modelli adesso è scomparso il 3.5 almeno nel repertorio che io riesco a vedere si può usare tipo campo prova tipo sandbox ancora usare un modello che è superato all'inizio dello sviluppo di questo sistema quindi parliamo nel marzo 2023 c'era chat GPT 3.5 che aveva una limitata cioè dei dati che erano disponibili era programmato su dati disponibili fino al 2022 quindi non c'era disponibilità di dati aggiornati attraverso dei plug-in era in grado di navigare in rete in un modo molto precario e quindi di fatto non svolgeva per niente le funzioni che svolge un motore di ricerca perché aveva un patrimonio di conoscenze congelato dopodiché le cose sono rapidamente cambiate e le caratteristiche le performance dei modelli hanno avuto uno sviluppo decisamente interessante la versione a pagamento ripeto non è un messaggio pubblicitario ma vi racconto che cosa ho deciso di fare io sono stato molto incerto le proposte commerciali sono di vari sistemi ce ne sono continuamente chat GPT ad oggi è quello che sembra soddisfare di più le mie esigenze di clinico e ricercatore mi sono concesso lusso di avere anche l'abbonamento a Antropic Cloud il costo è di circa 20 dollari al mese quindi un costo rilevante ma analogo a quello di alcuni servizi informatici come il cellulare un po' più che un abbonamento mensile al cellulare ormai lo ritengo come avere il cellulare dal punto di vista della funzionalità dal punto di vista dell'uso pratico siccome ho avuto una grande disponibilità di tempo essendo rimasto a casa in malattia ed essendomi dedicato moltissimo a questo è stata di metterlo in parallelo alle attività quotidiane e cercare di capire se poteva offrire su alcune attività un ausilio utile a supporto a semplificazione o aiuto quindi diciamo dal marzo 2023 si è assistito ad un fiorire delle potenzialità la prima principale è stata quella di avere la possibilità di aggiornamento in rete dei dati per cui oggi è in grado di pescare nella quasi totalità delle situazioni informazioni aggiornate in rete non è però un motore di ricerca la sua valenza è una questione molto diversa nelle versioni a pagamento le funzioni più alte diciamo più evolute sono però anche contingentate dopo vedremo perché è possibile ad esempio far svolgere delle funzioni di analisi dei dati ad esempio dando dei file a complemento e possiamo però hanno un numero limitato ad esempio di 30 interrogazioni in due ore quindi se dovete fare una sessione dimostrativa molto intensa noi adesso abbiamo circa un'ora e qualcosa davanti dobbiamo stare attenti a non superare il tetto previsto perché altrimenti ci rischiamo di bloccare ma mi sembra che abbiamo abbastanza fine in cascina per poter mostrare le cose allora facciamo degli esperimenti molto generici se qualcuno ha delle idee di ricerca o di curiosità anche partendo da cose molto banali lo proviamo poi vi faccio vedere gli usi che possono essere un po' più sofisticati e avanzati io non so se lo usate se lo usate per questioni vedete qui ci sono ragionamento rapido ad esempio la versione mini è come si fa la pasta al sugo dammi indicazioni è un prompt pessimo poi vi dico perché ma l'ho fatto di getto come facevo i prompt i primi tempi allora la rapidità è la caratteristica di questo O1 mini così la ricetta io non sono esperto di cucina mi sembra a prima vista corretta anche piuttosto dettagliata se noi volessimo se noi volessimo ottimizzare la ricerca dovremmo dirgli delle coordinate ad esempio dirgli qual è la caratteristica più importante se l'avete imparata nel tempo cosa dobbiamo spiegare visto che stiamo parlando di una simulazione dell'interpretazione di un ruolo dirgli di agire tipo come uno chef esattamente per cui se io ho un esempio di uno chef particolarmente brillante che mi interessa oppure se la mia cucina invece riguarda la psicologia clinica gli dirò che faccio adesso non so se è un titolo di merito che faccio il professore deve interpretare il ruolo del professore universitario con esperienza trentennale o lo psicanalista relazionale cioè vi costruite un ruolo che possieda delle caratteristiche che danno autorevolezza quindi aprono come più sportelli possibili dal punto di vista delle conoscenze delle associazioni mentre se non glielo diciamo attingono un repertorio che è più ruspante più di base allora ad esempio sei sei un cuoco un cuoco di grande esperienza esperienza di un ristorante stellato sto inventando non l'ho mai fatta stellato dammi dammi la ricetta per fare un'ottima una una pasta una pasta al sugo al sugo della migliore qualità possibile è in grado di riconoscere qualificazioni accrescitive e superlative l'età è anche abbastanza insensibile agli errori ortografici adesso io sto sbagliando non apposta ma ecco la chiamata ricetta gourmet non so quanto sia migliorata però il pomodoro li qualifica come San Marzano il vino li dà delle qualificazioni stiamo giocando su una cosa molto distante dalla clinica ma proviamo a rifare la domanda che abbiamo fatto con Cesare in primavera del 2023 allora sei ormai abbiamo capito gli dobbiamo dare un contesto sei un docente di psicologia clinica universitario come se fosse ancora un attributo di qualità con 30 anni invento è un po' un'arma a doppio taglio perché 30 anni può essere ormai uno un po' incancrenito e quindi resistente alla curiosità però nella mia ipotesi è che apra apra molti sportelli con 30 anni di esperienza formula allora fai lo schema allora questo è molto importante studiare la metodologia le cose non riescono un colpo solo distinguere l'intelligenza artificiale dall'oracolo è che non è un sistema onnisciente è un sistema al nostro servizio che risponde tanto meglio quanto siamo in grado di graduare il suo lavoro organizzandolo noi cioè il volante come nell'automobile dobbiamo continuare a tenerlo noi la macchina ad oggi non ci sostituisce e non siamo neanche dell'idea di farci sostituire nel lungo termine abbiamo bisogno però di governare questa relazione questa strana danza dopo vediamo perché gli faremo delle domande via via più intime finché siamo sulla pasta al pomodoro o al programma di un convegno siamo lontani quando gli chiediamo informazioni sulla prognosi di una malattia ad esempio siamo in un campo decisamente molto diverso le risposte si prestano a ricadute emotive etiche strettisse ma procediamo con ordine fai fai lo schema di un anzi come procedereste per fare lo schema di un convegno di due giorni sulla psicoanalisi relazionale cosa gli chiedereste aiutatemi così lo facciamo insieme di solito noi come siamo stati abituati a fare un progetto di ricerca quando dobbiamo ideare qualche cosa raccogliamo un'idea ad esempio se dobbiamo fare un articolo scientifico guardiamo quali sono dei temi un po' di tendenza o degli argomenti che sono poco coperti quindi allora identifica tre temi di maggiore attualità nel dibattito Cesare ci sei? sì non capivo se chiedevi nel dibattito della psicoanalisi relazionale va bene o se no ieri abbiamo fatto chiediamoli se identifica tre temi di maggiore attualità nel comportamento dello psicoanalista relazionale contemporaneo un po' il tema di ieri vediamo cosa sceglie ci dice cosa fare l'anno prossimo diciamo qua l'istituto Mice come se fosse vediamo tutto senza rete perché non sappiamo come ci risponde ci parla di intersoggettività e co-costruzione in sé diversità inclusività e sensibilità culturale mi pareva che si perdesse l'occasione visto che è un tema oggi generale e tecnologia e terapia digitale guarda caso siamo qui a parlare di intelligenza artificiale è abbastanza furbetto cosa gli chiediamo struttura passiamo subito all'azione siamo un po' pratici perché potremmo potremmo limare molto ma struttura sulla base di queste tre tematiche un convegno di due giorni prevedendo mentre scrivi dico per curiosità che tra le nostre cioè abbiamo intenzione l'anno prossimo di fare un convegno con Silvio Merciai e Roberto Gois vediamoci se ci riusciamo proprio sulla diciamo terapia online non comunque sul lavoro online quindi il terzo punto la vuoi solo sulle due sulle prime due no no era per dirti che ha centrato il programma dell'anno prossimo dell'istituto micia per dire sì ma come dire che siano di attualità lui si basa su una quantità di dati e lo conferma quindi non avete bisogno che il CiotGPT dica che la scelta del tema è giusto ma diciamo che l'allineamento è interessante assomiglia secondo me come a parlarne ai colleghi e avere una validazione oppure no ecco questa è la questione questo è un primo uso stiamo ragionando su come fare i prompt e stiamo dicendo che conoscere il funzionamento è fondamentale per capire come parlargli stavo notando prima che nel mio schema per come ragiono da un lato la conoscenza più analitica per esempio citavi Austin la filosofia analitica del linguaggio i performativi cioè come sapere che stiamo parlando a CiotGPT in termini proprio diciamo così più analitici intendo dire con dei criteri che mettono a fuoco il come costruiamo il comando vocale o la comunicazione dall'altra parte abbiamo bisogno come stavo un po' cercando di accennare di essere più sintetici vale a dire soprattutto come clinici no anche che possiamo provare a comprendere man mano che lo usiamo come parlare a CiotGPT intendo dire come parlare con qualcuno quindi personificandolo qualcuno che ci può aiutare quindi volendogli bene essendo gentili dandogli tutte le informazioni che servono affinché lui possa capire veramente cosa si stanno chiedendo e muovendoci in questi termini tutto sommato usiamo la nostra mente così come la usiamo quando effettivamente abbiamo bisogno di collaborare con qualcuno direi che collaborare con i pazienti è proprio la cosa minima alleanza terapeutica alleanza diagnostica sono termini che fanno parte dei nostri neuroni non c'è neanche bisogno di dire dobbiamo imparare a sapere come la nostra mente a contatto con una macchina può predisporre la macchina a far sì che riusciamo a fare al meglio quello che vogliamo fare e quindi introdurla nella nostra vita significa vedere tutti questi elementi attraverso un po' quello che ci stai raccontando vederli meglio la possibilità di interazione con le conoscenze in rete fa sì che il patrimonio di dati che naturalmente è rappresentato sulla base numerico-statistica non sul valore quindi c'è il rischio che vinca la maggioranza questa è una delle grosse preoccupazioni ad esempio tutti i temi di inclusione che leggiamo qui non sono banali ad esempio esistono culture che non hanno accesso alla rete e alla sua rappresentazione virtuale pensiamo le culture che non hanno delle lingue scritte pensiamo chi non ha potere industriale pensiamo allo sviluppo diverso da come l'abbiamo pensato in una maniera occidentale questo sistema è fabbricato dal mondo industriale evoluto quindi questa è una prima è un primo rischio però allo stesso tempo sapendo che ci muoviamo e dobbiamo saperlo benissimo meglio ancora di prima che se ci muoviamo all'interno di queste coordinate poi possiamo attingere a delle capacità consulenziali per cui ad esempio siamo in grado di avere riscontri da questi una ricerca che abbiamo fatto di recente è cosa trovano i pazienti interrogando dal punto di vista clinico cioè GPT a proposito di come si curano e dove devono curarsi le risposte sulla biologia sono quasi tutte corrette sono quasi perfette il punto è che risentono della massa critica di propaganda che fanno i centri di cura per cui i centri privati sono sovrarrappresentati rispetto ai centri pubblici questo è un punto fondamentale per cui ad esempio io non lo userei per scegliere dove curarmi l'abbiamo appena pubblicato a proposito di un tema che ci sta molto a cuore che è un tumore dell'adolescente dove dieci anni fa pubblicammo un lavoro che mostrava come un adolescente che va a cercare abdomiosarcoma trovava su youtube che all'epoca era lo standard informativo per i giovani e trovava solo commemorazioni di morti perché negli Stati Uniti il modo di commemorare il defunto attraverso il video era molto più comune che in Italia e la sanità non aveva un compito informativo e quindi quella zona di comunicazione era completamente disertata pubblicammo un lavoro quest'anno l'abbiamo rifatto guardando cosa c'è sull'intelligenza artificiale e abbiamo trovato un fenomeno completamente diverso risponde bene sulla biologia ti dà anche dei dati che sono realistici non confrontanti però se gli chiedi indicazioni su dove curarti le informazioni sono tutte legate alla diffusione dei messaggi presenti in rete e non ad esempio su dati che sarebbe molto più interessante conoscere che sono i dati di sopravvivenza piuttosto che altri criteri i dati di soddisfazione del paziente ma sono ottenuti attraverso i dati di tipo propagandistico questa è una questione permettimi di fare l'osservazione questo è comune non condivido il video perché prima è saltato tutto ma magari questo è comune in qualunque sistema informatico ma se volete è anche comune a livello umano nell'informatica si chiama garbage in garbage out cioè se io nutro un sistema informatico con dei dati di poco valore quello che ne avrò in uscita saranno dati di poco valore se una una persona si fa la sua cultura soltanto sul gossip e sui rotocalchi quello sarà il suo mondo se queste macchine in certi campi sono state allenate soltanto con della roba presente in rete e di bassa qualità questo sarà l'output non non possono immaginarselo diciamo prima si parlava di costruzione della realtà la realtà di quelle macchine è stata creata in base ai dati sui quali sono state allenate questo questo è diciamo l'elemento critico fondamentale che viene ricordarsi perché il rischio di attivare delle aspettative che sono appunto di sopravvalutazione di magia le capacità se gli chiediamo la ricetta della pasta al pomodoro ce la fa benissimo e poi vediamo che quando gli chiediamo le cose poetiche perché ci sono le cose alcune veramente stupefacenti volete che ve ne faccio provo a farvene vedere volevo finire questo esempio qua se sei d'accordo perché abbiamo tenuto il bandolo di questo convegno che fanno il prossimo anno che mi sembrava importante volevo finire il prompt così abbiamo la verifica di che cosa c'è chiedo conferma in aula Cesare e i colleghi struttura sulla base di queste tre tematiche un convegno di due giorni trauma e dissociazione su trauma e dissociazione sulla base dove è queste due giorni su trauma e dissociazione così come in due giorni gli devo dare qualche dettaglio mettigli anche il livello e il convegno vediamo se mi funziona il convegno allora sono il convegno è destinato è rivolto rivolto a clinici a clinici specialisti in psicoanalisi relazionale di servizi pubblici e privati vediamo come risponde devo dire questa è una delle versioni più di base tanto la velocità è fulminea nonostante tutti i problemi di trasmissione che abbiamo vediamo oltre la pausa caffè se dice le cose prevede le tappe burocratiche prevede le tappe cerimoniali quindi non sgarra sulle cose poi ovviamente non è in grado di dare i nomi se noi avessimo un board già potrebbe provare a inserirlo in automatico ad esempio non con questo che è chat gpt mini ma se andiamo con un ragionamento più avanzato tipo questo vedete la graffetta la graffetta consente l'upload di file e questo permette l'interazione tra funzioni per cui ad esempio possiamo caricare l'elenco dei partecipanti e dargli un task mentre nella funzione di base che abbiamo usato semplicemente sviluppa delle cose come se fosse un tema un testo in modo abbastanza di base ditemi se avete qualche altra curiosità su questo che è una dimostrazione molto esile naturalmente Carlo ci stiamo chiedendo mi senti? Sì sì siccome appunto stiamo chiedendoci delle cose allora se noi gli chiediamo più precisamente di guardare la realtà locale dell'istituto Mice lui in questo momento ha delle informazioni che può recuperare? Non credo vediamo un attimo io cambierai abbiamo un sito abbiamo alcune però poco cambierai il sistema allora vediamo un attimo mi dovete ridare tanto l'aspetto commerciale non ci interessa prendi diciamo la massima potenza possibile che tanto fra sei mesi è già obsoleta quindi metti pure Omnia allora io andrei su questo andrei su questo aspetta lo faccio nuovo così e uso il prompt che ho copiato allora sto mi conviene due giorni sui conviene di ruote al crimici metti usa allora il convegno sarà organizzato dall'istituto Mitchell guarda che questo prompt è errato perché queste tre tematiche quali? stai facendo riferimento dell'informazione dimmi cosa correggere dimmi cosa correggere sulla base di tre tematiche perché sulla base della letteratura della stuttura un convegno in due giorni su trauma e dissociazione il convegno è rivolto a clinici specialisti in psicoanalisi relazionale di servizi pubblici privati il convegno sarà organizzato dall'istituto Mitchell di cui trovi ti va bene Giuseppe di cui trovi informazioni nel sito prova a dargli il sito lo dai se ti piace l'urla è www.psicoanalisi relazionale punto com Ale posso fare un commento mentre scrivi vediamo scusate istituto Mitchell sì sempre senza rete per quello che io volevo usare le cose predisposte ma almeno così avete la dimostrazione che non c'è trucco non c'è inganno allora vediamo come funziona tanto dice che siete in via la distura 5 a Torino mi recluta allora il trucco è che siccome è programmato sui miei dati mi dà una una salienza evidentemente ti ha trovato a te gli altri relatori se ne inventa però sì gli altri se ne inventa se ne inventa tutti allora tenete conto questo è molto interessante in medicina c'è una preoccupazione molto grossa l'obiettivo dell'intelligenza artificiale non è la verità ma è la verosimiglianza che è anche un tema caro alla politica e alla comunicazione quindi non è un tema che ci sorprende però il punto fondamentale è che le cose si presentano non vere ma verosimili nella primavera verosimiglianza del 2023 un avvocato americano presenta un ricorso voi sapete che la giurisprudenza angloamericana è basata sui precedenti e cita dei precedenti favorevolissimi al suo caso il giudice rimane colpito ma non se ne sta e approfondisce e trova che i cui precedenti sono inventati in maniera mirabilmente corretta perfetta sono verosimili ma ahimè non sono veri e persino nel processo giudiziario dove quello che è importante non è la verità non è la verità ma la ricostruzione è la verità processuale però continua ad esserci una differenza rispetto alla realtà oggettiva e quindi finisce in un pasticcio enorme con una specie di ritorno indietro perché questi sistemi sembrano promettere in realtà mostrano di essere estremamente rischiosi è quello che vi dicevo prima quando vi dico che il sistema vada più a come formatta il suo output piuttosto a che cosa ci mette dentro che riscontri che riscontri allora in questo caso volevo scusa dire una cosa perché sicuramente è interessante questo adesso tu citavi appunto la giurisprudenza cioè c'è un contesto dentro il quale ci muoviamo di grande rilievo per capire l'intelligenza artificiale però tornando a noi qua e sfruttando al meglio come ci interessa fare la vostra presenza beh intanto appunto l'organizzazione di un convegno interessa alcuni di noi tipo 4 o 5 ma il resto delle persone non organizzerà convegni diciamo nei prossimi giorni o nei prossimi mesi ma il resto dei partecipanti è invece molto interessato agli aspetti di approfondimento e di studio che c'ha GPT può fare come al meglio può funzionare cioè attraverso la verosimiglianza nel senso che se noi dobbiamo se noi siamo dei giudici o siamo degli avvocati ci interessa come dicevi tu l'oggettività ci interessa quello che è successo veramente se noi dobbiamo formarci alla comprensione della psicopatologia ci interessa la verosimiglianza vale a dire che non ci sono due persone che presentano lo stesso sintomo nello stesso modo per esempio può essere quasi nello stesso modo quindi la ricostruzione che ha GPT può fare dandogli il prompt che diciamo così gli fa comprendere qual è il contesto psicopatologia da un punto di vista potremmo dire anche psicodinamico e dici quindi come può essere rappresentato un sintomo lì la verosimiglianza è esattamente il criterio che ci serve quando noi studiamo l'elenco di sintomi sul manuale diagnostico secondo me non c'è neanche la verosimiglianza perché è un codice la statistica mentre se c'è una ricostruzione che in parte è narrativa e in parte fa riferimento anche a qualcosa di più diciamo obiettivato oggettificato lì abbiamo proprio la possibilità di far sì che la nostra mente funzioni come abbiamo bisogno che funzioni per imparare per approfondire che cosa effettivamente nell'ambito del lavoro clinico ci possiamo trovare davanti evidentemente è un livello della realtà è quello che stiamo discutendo ma quel livello della realtà nella verosimiglianza trova diciamo l'espressione compiuta di quello che abbiamo bisogno di trovare non siamo giudici la valutazione clinica il giudizio clinico non è un giudizio di obiettività ma è un giudizio che ci include e arricchito tanto più quanto noi abbiamo la possibilità di sentire che quello che stiamo proponendo al paziente che scriviamo colga qualcosa nella realtà dell'altro quindi il criterio lì effettivamente non è di oggettività no allo stesso tempo il criterio di oggettività è se tu fai un lavoro scientifico e hai le voci di referenza sbagliati errate come riferimenti il sistema va a fondo ad esempio una cosa che preoccupa moltissimo è l'integrazione di questi sistemi nel processo di produzione editoriale che è un tema di interesse strategico per l'università dove sappiamo per motivi variegati la pressione è stata sempre di più ad esempio verso ottenere prodotti editoriali sulle viste internazionali indicizzate oggi un libro noi abbiamo fatto questo libro è bellissimo come occasione ma dal punto di vista scientifico non vale nulla dal punto di vista scientifico dei settori bibliometrici perché perché quel tempo lì se fosse stato impiegato per un altro poi abbiamo pubblicato lo stesso degli articoli scientifici ma fare un'opera di oh signor si è staccato qualcosa aspetta vediamo un attimo no si è staccato qualcosa si è staccato qualcosa di video no ecco siamo forse no no sì così mi vedete perché non ho slide in questo momento scrivere un manuale sull'uso può avere un effetto di terza missione ma non ma non ma non serve mentre c'è una grossissima diciamo investimento sul fatto di come questi sistemi possono velocizzare o addirittura dopare il sistema di produzione degli articoli scientifici adesso è uno dei temi di cui voglio parlare fra questa la prossima volta vedo che forse c'è qualche intervento poter sentire perché ciao grazie ciao noi ieri abbiamo lavorato insieme a Milko Prati e Sandra Buchler non si sente nulla prova prova mi senti di meglio ok noi ieri abbiamo lavorato con Milko Prati insieme a Sandra Buchler su un caso clinico e abbiamo ragionato insieme ai partecipanti su alcune dimensioni di questo caso clinico se noi dessimo in pasta a CiaGPT il file pdf in cui è riassunto il caso ecco volevo provare a capire se rendere superfora la figura del supervisore sia possibile cioè noi possiamo chiedere a CiaGPT di leggere il caso clinico di Milko e suggerire alcune dimensioni da esplorare nella prossima seduta cioè cosa faresti nella prossima seduta con questa paziente? Sicuramente è una prova da fare e sicuramente potresti anche guarda quello che abbiamo quello che abbiamo fatto io Carlo è anche è stato proprio quello di fare simulare dei casi clinici sono state le prime prove a questi sistemi quindi sicuramente questa è una prova che farei però va validata ricordatevi una cosa importante questi strumenti vi aiutano di più quanto più siete in grado di riuscire a valutare la validità dei risultati proposti questo è perché per esempio nella programmazione io da fisico informatico la programmazione per me è un'attività quotidiana delle volte anche molto frustrante perché è ripetitiva devi scrivere un sacco di codici bene se so quello che voglio fare quello che voglio ottenere dico al sistema mi fai un programma che faccia questo questo e quest'altro e lui me lo fa però è chiaro che poi lo controllo sono in grado di controllarlo l'esperimento che proponi sicuramente è una cosa da fare voi però dovete discuterne i risultati io scusatemi ho una serie di riflessioni perché allora io vi volevo portare un po' più gradualmente verso l'uso perché stiamo parlando di un uso estremamente alto e sofisticato abbiamo bisogno di capire come funziona la pasta al pomodoro intanto perché abbiamo dei passaggi di mezzo ad esempio io prima di capire che cosa dire nella prossima seduta vorrei vedere come è in grado di trasformarmi e che cosa è in grado di interpretare come saliente una relazione di 20 pagine che devo dare a un paziente e tradurla alla sua badante questa è una cosa che personalmente mi sta moltissimo a cuore non siamo ancora in grado di farlo posso farvi vedere una ricerca bibliografica con riassunto dei pepper questo dopo la pasta al pomodoro volevo arrivarci perché ad esempio è una delle cose più interessanti gestire la documentazione ad esempio teorica di ricerca e capire come estrae perché nel corso di questi due anni sostanzialmente di intelligenza artificiale si è passati da un'interazione rudimentalissima con la rete cioè aveva dati vecchi archiviati ha possibilità alcune volte entusiasmanti ha avuto un accesso a ampi repertori di riviste di cui poi sono stati disdetti gli abbonamenti per cui da un giorno all'altro certe potenzialità di esplorare la letteratura in diretta non è stata più possibile il giorno dopo e dall'altra l'interazione con quello che noi diamo come documento per cui addirittura possiamo programmare dei GPT personalizzati dandogli il patrimonio delle informazioni che abbiamo noi o addirittura rendere la macchina un po' addestrata su quelli che sono i nostri modi di pensare di relazionarsi ad esempio ho fatto un esperimento mentre ero ricoverato questo ve ne avrei voluto parlare dopo ma secondo me ricorda un po' questo ad esempio ho chiesto di rappresentare una sorta di testamento spirituale sulla base di una intervista fatta da Erzog che a me piaceva moltissimo perché Erzog dice porta sempre con te un paio di cesoie che potresti averne bisogno e gli dico di fare alla mia maniera una specie di testamento spirituale e pubblica una serie di 12 o 18 punti che rispecchiano Carlo Clerici ma in un modo sorprendente tanto sorprendente che ha sorpreso me di quanto mi conosce questo è naturalmente illusorio come il mago che tira fuori la carta ma c'è un trucco e alla magia possiamo credere ma sappiamo che è un trucco e questa zona strana sospesa fra credere e non credere è determinante e quindi però mi piacerebbe portarvi un po' più per mano perché abbiamo prima di applicarla alla psicanalisi relazionale cosa di cui nessuno ancora si è realmente occupato e siamo qui a dirci che forse ci interessa sì pare che ci interessi abbiamo degli usi di base dell'uso della macchina che non sono ancora consolidati ditemi che ditemi che vi vedo in fermento ditemi ditemi potrebbe essere anche una buona tesi di laurea però perché avere più casi confrontare le risposte di diversi motori e giudicarle potrebbe essere un bel lavoro stiamo dicendo che è un'area di ricerca o di applicazione clinica potenzialmente interessantissima cioè siamo qui e ci riempie di curiosità ci mancano dei fondamentali sappiamo che ci inganna ci frega addirittura privilegia la verosimiglianza sui fatti ma il sistema è migliorato come performance in modo drastico e di settimana in settimana evolve in maniera sorprendente quest'ultima settimana ad esempio abbiamo delle funzioni che prima facevano solo i GPT personalizzati adesso lo si fa tranquillamente navigando in rete quindi c'è stato c'è stato un salto di qualità nella prossima volta proprio perché oggi vorrei parlare ancora d'altro la prossima volta vi faremo vedere delle cose che sono già forse girate delle capacità di simulare il ruolo del paziente che sono stupefacenti ma come vi dirà Giuseppe Levy ad esempio c'è un bias di cui nessuno ancora pochi ancora si sono interrogati che i pazienti ricostruiti con l'intelligenza artificiale sono troppo gentili e ben adattati cioè contentano gli avvocati americani mentre il paziente reale è un paziente che ci insulta ci può strozzare ci può uccidere ci può far innamorare può succedere di tutto e la realtà clinica è questa roba qui e non dobbiamo dimenticarcela perché abbiamo un buon surrogato altrimenti confondiamo il surrogato con la realtà quindi siamo qui a cercare di capire che cosa può venire di buono ma allo stesso tempo anche cercare di non fidarci completamente di questa il tema di oggi di questa parte di lezione poi secondo me l'esperimento paga di più che non il materiale preparato è vero però un po' di materiale io l'ho preparato per farvi vedere che ci sono alcuni fondamentali che vanno conosciuti perché ci sono alcune funzioni dell'intelligenza artificiale che possono intanto darci un sollievo su delle funzioni ripetitive perché l'intelligenza artificiale non sostituirà il clinico ma mica lo vogliamo ma vorremmo ad esempio delegare io vorrei delegare all'intelligenza artificiale la questione della gestione del dato clinico che inceppa la medicina ogni medico è saturato da montagne di carta io sono in gombo da mail a cui devo rispondere adesso ho imparato a non rispondere più ma ci sono le funzioni oggi ad esempio l'intelligenza artificiale è in grado di dare su moltissimi problemi una risposta se uno ha un prompt ben formulato di assoluta buona qualità facendo risparmiare tempo ha una funzione di consulenza per cui chat GPT dal punto di vista emotivo dal punto di vista emotivo mi aiuta come avere un amico che è interessato e partecipe ad una tematica e quindi si entusiasma e rilancia su questa tematica aiutandomi a rompere il ghiaccio a vincere l'inerzia rispetto a un certo tipo di funzione io da professore vedo gli studenti che sono indaffarati a fare l'esperimento che pensavano che esperimento pensavano lo facciamo collettivamente sono tutti lì a ridere e a guardare c'è il professore che trema che pensa che potrà essere sostituito senti se volevi si può far vedere c'è un paio di strumenti che io considero fondamentali vai faccio io o fai tu faccio io ci provo se non mi si blocca di nuovo tutto allora questo è il GCPT versione versione gratis perfetto perché versione gratis io sono un docente universitario e io per diciamo missione per io propongo ai miei studenti solo strumenti gratuiti non faccio pubblicità a delle a degli strumenti commerciali ma tra gli strumenti commerciali voi vedete allora questo è lui in versione standard ma qua vedete degli strumenti aggiuntivi ne prendiamo uno che è SciSpace che riguarda la ricerca di materiale scientifico datemi un argomento o una domanda scientifica di vostro interesse se no tu dimmi tu Carlo se noi mettiamo violence prevention fire arms prevenzione la prima di cui ci eravamo occupati anche con Cesare negli anni su cui poi la ricerca è rimasta per noi ancorata ancora ai vecchi sistemi ricerche su PubMed vediamo che cosa ci risponde poi magari SciSpace è anche un sito accessibile che quindi il sistema in questo caso vedete avvio vuole comunicare con typeset punto io allora mi dice guarda sto avviando un'azione esterna sto attivando una un'azione esterna e la cosa secondo me bella è che non solo lui mi trova i paper non so se li vedete ma mi ha già fatto un riassunto con tanto di riferimento questi sì la forma è buona ma è andato in rete a cercarli questi sono paper reali quindi io ho già qua il riassunto se volessi potrei farmelo anche tradurre in italiano rapidamente ho preferito usare e con i riferimenti ai primi paper che ha trovato tutto questo gratuitamente abbiamo concluso con i miei colleghi che a questo punto le tesi compilative dove si chiedeva allo studente trovami dei lavori riguardo a un certo argomento e farne un buon riassunto facendo una tesi compilativa a questo punto sono quasi automatizzate vi faccio vedere questo strumento non so scusami Giuseppe non so se tu hai visto negli ultimi giorni e lo conosci senz'altro teoricamente ma è diventato attuato nella pratica la nuova funzione Canva di chat GPT a pagamento che ha una funzione per cui tu riesci a lavorare di fatto già su un documento dandogli più input contemporaneamente e riesci a lavorare praticamente la tesi compilativa dici bene è superata superatissima ci sarà bisogno di chiedersi su che criteri possiamo valutare oggi è evidente che questo sistema non si riesce a disinventare la tesi compilativa non è la redazione che ci interessa casomai la metodologia piuttosto che la critica piuttosto che chiedersi nel processo di revisione accettazione quali sono i passaggi critici adesso lo scrivere ha un valore che è completamente cambiato lo si è automatizzato una volta che una persona conosce il vaglio delle fonti e sa di non farsi ingannare dalle citazioni fasulle e poi abbiamo bisogno di insegnare bene altre cose ed è tra l'altro tempo risparmiato perché su alcune tematiche se io devo leggere una revisione di due anni fa o farmene una io oggi diventa competitivo potermene fare una io in maniera automatizzata non siamo ancora in grado di farla con questa semplicità ma ci avviciniamo moltissimo quello che ci fai vedere è un lavoro di sintesi sul processo di revisione sistematica attraverso aiutato l'intelligenza artificiale è uno dei campi più interessanti non perché l'esito sia aumentare le revisioni sistematiche della letteratura e pubblicare di più e far carriera ma per ripensare sul fatto dell'aggiornamento perché le revisioni sistematiche probabilmente ci serve farle quando ne abbiamo bisogno e non scongelarle dal frigorifero di vecchie questo è una potenzialità nuovissima chiunque di noi si occupa di temi sa che la letteratura deve continuare a guardarsela non dico quotidianamente ma quasi per tenersi aggiornato ecco con questi sistemi può essere un ottimo compromesso di accesso io adesso sono un po' incerto perché vi volevo far vedere questa carrellata però poi Giuseppe ha voglia di farvi vedere gli esperimenti scegliamo una strategia perché abbiamo circa una mezz'oretta e a me piacerebbe però farvi vedere i fondamentali i fondamentali dell'uso diciamo canonico della Giuseppe come ce la giochiamo dimmi tu se avete giuseppe è uscito lo riemetto allora sono in condivisione metto la presentazione scusate vado a bomba su quello che vi volevo far vedere io ecco ovviamente era crollata la sì avevo ripreso un attimo in mano sì 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 io intanto ci tenevo a fargli vedere durante queste ore questi strumenti io faccio vedere agli studenti allora interrompo la condivisione così gli fai vedere il tuo e poi no no ma intanto già gli abbiamo fatto vedere ne abbiamo fatto tutte le revisioni adesso continua va bene allora perfetto in questo schema metto in presentazione dovevamo farci ricapitolavo l'evoluzione vertiginosa dei sistemi commerciali principali dove noi parliamo di chat GPT sempre non volendo fare pubblicità e Giuseppe vi ha mostrato le funzioni gratuite che sono diventate più ampi e accessibili io vi dico che la mia scelta è stata di fare l'abbonamento e che uso ormai sistematicamente cioè lo considero nel paniere essenziale delle spese di famiglia ci sono dei lussi come Antropic Cloud e poi ci sono delle funzioni che oscillano fra il gratuito e il pagamento che sono ad esempio chi di voi ha un account istituzionale o ha l'abbonamento a Windows ha probabilmente Copilot con delle funzioni almeno di base questo è importante chi ha l'abbonamento a Teams ad esempio dato dall'università ha anche Copilot ed è poi le slide ve le do naturalmente una volta che è finito tutto perché ecco la cosa bella è che tu puoi darle al passo dell'intelligenza artificiale e dirgli rifammi questa slide parafrasandola in modo che non si riconosca dall'origine che si distingua dall'originale una volta uno doveva fotografare se vedeva una cosa interessante oggi ce l'ho se l'ho fotografato è mio attraverso un uso praticissimo allora vi segnalo perché nel corso del tempo a me è capitato di poter seguire con un aggiornamento con un aggiornamento quasi quotidiano questi sistemi sto facendo riammettendo persone in sala d'attesa c'era stato qualche down della linea se vi ricordate la primavera scorsa c'era Google Bard e a un certo punto ha cambiato è diventato Gemini Bing è diventato co-pilot ChatGPT è rimasto ChatGPT e Antropic Cloud è diventato disponibile in Italia anche senza VPN Antropic Cloud fra le prime persone di cui mi ha parlato è stato appunto Giuseppe Levi per le sue caratteristiche interessanti anche sulla sulla programmazione ne manca uno che ne mancano molto ce n'è uno che io userei cioè Mistral che è l'intelligenza artificiale europea sviluppata in Francia Mistral AI è disponibile gratuitamente se volendo vi posso anche far vedere degli strumenti da sviluppatore cioè se io non l'ho mai usata perché appunto richiede una competenza già un po' diversa da quella che ho e teniamola teniamola lì magari fra un attimo così la facciamo vedere perché la possibilità anche di valutare comparativamente le esigenze che ci sono e le risposte che danno questi sistemi per cui vi racconto un'esperienza che è assolutamente personale così come nel libro c'è una raccolta di esperienze d'uso poi non c'è come imparare singolarmente ad andare perché esiste una teoria generale dell'uso della bicicletta ma poi il sellino e il mio e la pedalata è assolutamente singolare questi sistemi hanno anche a che fare con qualcosa di fortemente individuale e non invece di generale allora quello che succedeva all'inizio della diffusione problemi no della diffusione di questi sistemi sono stati che alcuni avevano possibilità di accedere alla rete ed erano in grado di indicare le fonti mentre nei primi tempi in cui è stato commercializzato Coggt la versione semplice non accedeva alla rete ed era aggiornata fino al 2021 quindi un ostacolo non semplice in più Antropic Cloud spesso confabulava per cui un set di domande tipiche di solito uno anche per marcisismo diciamo elementare va a cercare come viene rappresentato tra l'altro è interessante perché ci dà modo di vedere che presenza abbiamo online per cui non so googlare l'istituto Mitchell probabilmente è interessante per capire chi raggiungete chi non raggiungete e si chiedono delle cose e le risposte erano alcune corrette con referenza bibliografica alcune corrette con bibliografia più ampia Bard ignorava del tutto perché la possibilità di andare in rete ecco questa è ormai preistoria perché la possibilità invece di navigare in rete cambia Bard si è tramutato in Gemini per un po' dato le risposte confabulanti e man mano ci siamo avvicinati ci siamo avvicinati a delle risposte sempre più precise fino a che GPD4 con la possibilità di navigare in rete ha possibilità di darci delle risposte che come ci diceva Giuseppe Levi Garbage Garbage out quindi dipende dalla qualità delle risposte che vanno non abbiamo possibilità ad esempio ad oggi di restringere se non con i GPT personalizzati le fonti ad esempio alle sole riviste scientifiche ed esiste tutto questo macroscopico problema di come le riviste scientifiche che sono vincolate ai criteri di tipo economico e produttivo l'open access è ancora fortemente limitato per cui il patrimonio delle riviste scientifiche passa attraverso sistemi bibliotecari a pagamento che quindi non confluiscono in questo però se voi avete un lavoro scientifico lo potete dare in upload diciamo che lì il copyright diventa meno rilevante una volta che ce l'avete ce l'avete e a quel punto potete interrogarlo attraverso delle funzioni che sono avanzate qui Claude era confabulante mi dava dell'84enne forse avrei capito una cosa che io non avevo ancora capito e che ero un conduttore televisivo diciamo abbastanza rischioso se dovevo impostare delle cose su lui va bene salto salto perché i seminari e le cose le abbiamo viste qual'era l'interazione con la rete era attraverso dei plug-in cioè dei sistemi che dicevano all'intelligenza artificiale di poter svolgere delle funzioni avanzate alcune erano giocose come giocare a scacchi alcune di un'utilità pratica estrema come la possibilità di navigazione di pdf oggi attraverso il sistema questo è una è quello che vi ho fatto vedere poco fa di della possibilità di upload attraverso la graffetta che voi vedete c'è possibilità di caricare file di vari tipi di formato cioè possiamo caricare formati di testo possiamo caricare file di excel questo è estremamente importante perché le capacità di analisi dei dati offerte da questo sistema sono analoghi a una prima consulenza di valutazione da parte di uno statistico questo dal punto di vista della mia realtà quotidiana ha cambiato moltissimo se prima per avere udienza uno statistico dovevo farlo partecipare alle fasi precoci del lavoro non poteva settimane di aspettativa oggi se voglio provare a chiedere consigli su come costruire un lavoro statisticamente o fare una prima analisi sulla base di materiale che ho accumulato se ho un file di excel questo è già in grado di darmi una serie di estrazioni e di consigli estremamente potenti io non so se qualcuno di voi ha l'esigenza di gestire dati di statistica nel campo del marketing trovate corsi diffusissimi sull'uso della data analysis ad esempio al servizio della vendita della pubblicità è tutto basato sull'interazione fra intelligenza artificiale e sistemi excel fondamentalmente dove tutte le analitiche sui flussi di vendita quindi questioni cruciali non come la vita delle persone ma come il denaro delle persone quindi non aspetti trascurabili sono stati fortemente valutati in ambito clinico per dei motivi che riguardano il rischio di errore il rischio di verità versus verosimiglianza il timore che la macchina sostituisca il clinico e a un certo punto queste potenzialità sono state ancora veramente utilizzate in maniera parziale vi faccio vedere quello che prima stavamo vedendo cioè i vari sistemi nella versione gratuita che vi mostrava Levi c'era ancora il 3.5 e il 4 adesso la versione a pagamento ha delle funzioni che sono molto avanzate il 3.5 non c'è più non c'è più anche lì ok anche qua siamo solo tra il 4 e lo 1 va bene quindi e credo che il limite sia sul numero di generazioni possibili nel tempo un numero massimo un po' più stretto però più o meno le funzioni sono sono sovrapposte vi parlavo dei plugin adesso sarebbe interessante farvi vedere qualcos'altro tu hai fatto vedere SciSpace si può far vedere ScholarGPT se vuoi lo fai vedere tu o lo faccio vedere io come vuoi guarda adesso aspetta ridivido allora allora mi rimetto qua ti rompo la condivisione ti cedo la condivisione lo schermo se vuoi far vedere Scholar condividi ho cambiato computer perché non ne potevo più bravissimo cioè da buon informatico ogni informatico ha almeno due computer assolutamente allora quello che vedete qua beh Wolfram avete mai sentito parlare di Wolfram Alpha chiamato anche il calcolatore universale è stata una delle prime intelligenze artificiali ben prima di Chattupt ed è un oggetto a cui puoi fare domande di ogni genere tra cui calcolare l'indice di massa corporea io l'ho fatto vedere al mio dietologo è rimasto spaventato poi ha preso appunti ha detto che rivendeva i report di Wolfram Alpha alle suoi clienti come se li avesse generati lui però andiamo in Scholar GPT e di nuovo datemi un argomento un argomento da analizzare puoi puoi mettere intelligenza artificiale oncologia pediatrica allora pediatri con oncologi artificiali proviamo in italiano del rapporto dell'intelligenza artificiale con l'oncologia pediatrica che a prima vista sembrerebbe non centrare nulla in realtà per noi è un tema come dire di un certo spessore eccoci qua e vedete adesso voglio vedere se mi tira fuori anche i riferimenti sviluppo di nuovi farmaci mi sembra mi tira fuori tutto quanto un 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 rapporto ecco quando vedete scritto conclusioni questa è quasi la firma handling lui non ha dato riferimenti bibliografici non è andato sai cosa facciamo a me piace spesso prendere un prompt e andare allora l'itmaps è un altro ma andiamo su size space che è quello che abbiamo fatto prima proviamo a darglielo in italiano poi vi faccio vedere tu parlavi della della confabulazione vi faccio vedere un bel caso di eccolo qua questo ci sta dando tutti i riferimenti bibliografici clerici sì clerici etal vedi non a caso l'ho detto perché abbiamo pubblicato un lavoro su una rivista internazionale recente ed è corretto che lo becchi ed è interessante che sei tu che sei legato a me insomma saremo tracciati ma non credo che peschi genuinamente dal repertorio non solo per nepotismo perché su Medline da poco è quel lavoro che vi dicevo sul sull'abdomiosarcoma possiamo andarci qua e cosa succede io adesso ci sono andato sul lavoro di Carlo e lui ce l'ha e io posso fargli domande io posso dialogare con questo lavoro metodi usati summarize introduction explain abstract practical implications practical implications che mi incuriosisce explain the practical implications of this paper allora questo lavoro ci si mette è un lavoro di tre pagine ci si mette qualche minuto a leggerlo la sintesi in italiano in inglese c'è si potrebbe chiedere anche di tradurlo se uno ha conoscete per tradurre andiamo direttamente per dare la dimostrazione di come prendere come dire avere conoscenza di un lavoro che sentite citare di solito la nostra generazione richiedeva andare in biblioteca stamparlo fotocopiarlo tuttora la biblioteca mi ha risposto che devo andare fisicamente a prendere un lavoro su carta mi sembra una cosa di un'altra epoca vedo che qualcuno fotografa perché Deep L ecco Deep L è uno dei migliori traduttori per testi di carattere di carattere tecnico e io gli ho messo il mio testo in inglese voglio farmene fare un riassunto guarda perché vedi che anche lui ha la parte di intelligenza vediamo riassunto in corso il documento evidenza che i chatbot possano essere utili per fornire informazioni generali ma non sono affidabili per consigli specifici sul trattamento sulla ricerca dei centri specializzati pertanto è necessario che i pazienti abbiano quello che dicevo prima intanto c'è un caveat generale che i consigli medici non sono mai come dire non è mai corretto leggerli fuori da un rapporto terapeutico e dall'altra però esiste un incertezza legato su come la validità dei centri è rappresentata da meccanismi che sono di natura non oggettiva non clinica o perlomeno solo quella avete visto tutti i passi del ricercare il paper trovarlo farsene fare un riassunto delle implicazioni e in inglese non lo capisco me lo faccio tradurre direttamente e c'è addirittura il riassunto perché sono abbastanza pigro da non leggermi tutta quanta la traduzione scusami Giuseppe volevo fare una piccola nota allora io adesso vivo molto nel mondo delle idee cioè il rapporto con la macchina è molto più stretto andando meno in ospedale se non da paziente quindi c'è un sovraccarico di una sopravvalutazione di questa risorsa uno dei rischi è diciamo l'iperafflusso informativo sì qui a un certo punto il rischio è una specie di di ubris all'onniscienza questo è un rischio perché riesci ad accedere a cose che un tempo richiedevano con un percorso lento e tortuoso la conoscenza era lenta e tortuosa adesso è istantanea e siamo sopraffatti da una valanga informativa però visto che siamo sopraffatti da una valanga informativa ad esempio se dobbiamo aggiornarci rapidamente perché abbiamo un convegno e abbiamo da essere aggiornati sulla letteratura scientifica in pochissimo tempo riusciamo ad avere dei flash di qualcosa che prima ci costava settimane questo è secondo me un passaggio abbastanza rivoluzionario da imparare a usare poi vedremo le prossime volte se sostituisce lo psicanalista secondo me non lo sostituisce affatto e non mi sembra neanche l'intendimento più interessante posso mentre anche se dobbiamo testarlo dobbiamo applicarci perché ci sono delle potenzialità sorprendenti viceversa sul snellimento di compiti rutinari in un tempo estremamente impegnativi questa potenzialità si dimostra secondo me molto interessante sull'aggiornamento la lettura della letteratura illustrazione illustrazione dei testi ad esempio se uno ha un testo in pdf è in grado di interrogarlo come se l'avesse letto allora è quello che sto facendo tu avevi fatto vedere il paper attention is all you need log scaricato quello è in pdf per favore leggere il paper allegato e fammene un riassunto tenendo conto che ho una cultura che ti fica ma non specialistica sull'argomento benissimo vediamo se introduci un'architettura di rete neurale chiamata trasor eccolo qua guardate qua ti sta sta leggendo allora il pericolo di allucinazione in questo caso è ridotto perché i dati glielo ho forniti io lui si sta basando su questi dati e il paper è in inglese lui mi sta facendo un riassunto in italiano con un linguaggio non non tecnico capite la potenza io rapidamente riesco a avere un'idea questo se lo volete vedere è un paper considerato seminal importantissimo dagli informatici ma non banale da andare a leggere se lo vuoi capire completamente però lui rapidamente me lo legge e me ne fa un riassunto qual è un pericolo non è tanto la creazione di artefatti cioè l'allucinazione quanto il fatto che lui magari possa aver saltato degli aspetti fondamentali che sono fondamentali per uno che conosce la materia ma che lui andando a leggere non è riuscito a comprendere però è un uso che voglio farvi vedere perché penso che sia utilissimo tutti gli studiosi benissimo Giuseppe vuoi che faccia vedere io ancora qualche altro uso pratico perché abbiamo come dire rivoluzionato la scaletta ma mi sembra che se oggi ci lasciamo con qualche idea da esplorare sugli usi pratici posso fargli vedere una cosa che a me è divertito alquanto allora parlando delle io sono un birbante scusate lasciatemi tre minuti perché io sono allora parlando delle allucinazioni un buon modo per provocare l'allucinazione a macchina è dargli delle informazioni errate già nel prompt questo è copilot Microsoft non ci delude mai in questo e allora gli ho detto commenta la poesia si sta come l'estate sugli alberi i cocomeri con lo stile di uno tema di quinta liceo ok e lui me la commenta attribuendola a Giuseppe Ungaretti con un bellissimo la scelta dei cocomeri non è casuale il cocomero è frutta estiva cioè è veramente un bellissimo tema ovviamente immaginatevi questo tema qua in mano a un professore di liceo se io fossi avessi il compagno di scuola Somaro che fa i compiti con ChatGPT e volessi fargli uno scherzo dici guarda dagli questo promot ti salta fuori un tema meraviglioso però non tutti i motori sono uguali se io vado su ChatGPT e gli ho dato a me piace testarli con lo stesso promot in questo caso ChatGPT è più furbo capisce che la poesia è ironica e e in questo caso non ci sono allucinazioni non ci sono allucinazioni perché lui dice la poesia è ironica c'è stata fatta questa sostituzione poi a me fa ridere perché fa dotti commenti stilistici cioè io da buon scienziato prendo in giro i letterati che aprono cioè vabbè comunque questo per farvi vedere è un inizio di come nascono le allucinazioni altri motori se la inventavano completamente prendevano quel verso come il titolo di una poesia e e e cominciavano e qua sembra saltata la connessione e cominciavano a inventarsela completamente ok Carlo ci sei ancora io volevo farvi Carlo faccio un po' ruolo del anche così diciamo del moderatore perché appunto abbiamo ancora 10 minuti farei rapidissimo questa cosa allora chiedo un aiuto sulla condivisione interrompo la condivisione scusa mi è ma no no tranquillo allora un attimo che credo che mi vedete allora vi faccio una carrellata rapidissima su delle altre funzionalità spero che mi sentite adesso abbiamo anche qualche piccolo disturbo collaterale di sottofondo ma stiamo parlando di immagini perché fra le potenzialità che ha l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale ci serve anche per comunicare vi ho detto fare fare bene fare sapere comunicare abbiamo delle possibilità quasi hollywoodiane prima per fare comunicazione avevamo bisogno e non avevamo le risorse di uno studio di posa costumi se dovevamo ricostruire le cose ce l'aveva solo hollywood la possibilità di generare immagini artificiali spiegando a parole che cosa vogliamo ottenere dà dei risultati strepitosi molto interessanti integrati in chat gpt ma anche a disposizione di sistemi gratuiti vi invito a sperimentarli dove nell'attività universitaria intanto ci sono i prompt per far fare gli omini con la vostra faccia se volete questo è un divertimento questo c'è il problema della privacy dei pazienti a febbraio abbiamo fatto un convegno sul tema della verità al paziente adolescente pubblicare foto di minori è delicatissimo e anche antietico ma di un minore che non esiste e questo tema invece ci libera delle possibilità comunicative che a noi sono sembrate interessanti poi arriviamo al limite degli esperimenti più strani sono stato invitato a parlare a un festival della magia delle relazioni fra magia e intelligenza artificiale al festival di San Marino che ho fatto online perché ero già in piena ricaduta non vi parlo di questo ma si è in grado praticamente se se fatti opportunamente di generare dei prompt con una qualità di immagine straordinaria io ho appena pubblicato un libro sulla gli aspetti psicologici della pratica odontoiatrica con tutto l'apparato iconografico fatto dall'intelligenza artificiale secondo lo stile non posso dire di Hopper perché è un artista recente ma di un artista grafico degli anni 50 statunitense e lo stile è quello di Hopper che a me piace e via dicendo le tonalità emotive tu puoi dire che l'assistente del mago deve essere più stupita ancora più stupita sorpresa proprio perché concetti immagini e sentimenti emozioni sono rappresentabili si possono fare le cose classicheggianti grafiche posso ricostruire l'esperimento di un rabbino che leggeva libri chiusi a Torino nel Settecento che è una cosa di cui si tramanda la tradizione degli illusionisti e anche dei maghi oppure un numero di un lettore del pensiero anche questa pratica che non esiste ma che ebbe grande credito nello snodo fra 800 e 900 e posso far fare le cose allora vengo agli usi pratici e qui abbiamo veramente pochi minuti è un flash ma ci tengo a lasciarvelo noi abbiamo pubblicato alcune cose diciamo paradossalmente aiutati anche dalla situazione della malattia sull'onda del passato dove abbiamo potuto esplorare con una certa libertà le tecnologie ad esempio l'uso di whatsapp in medicina l'uso di youtube in ambito sanitario o l'impatto che questi sistemi offerti dalla rete avevano sui nostri pazienti quest'anno siamo riusciti e l'articolo l'ho firmato con Giuseppe che ha dato un contributo fondamentale perché ha creduto tanto ha creduto che avessi qualcosa da dire nel rileggere la mia malattia attraverso l'interazione che avevo avuto con la macchina ponevo le domande che ponevo anche ai medici e da medico già delle risposte le sapevo ma ho voluto fare questo test in questa terza posizione da paziente per provare a vedere quali dinamiche si instauravano nell'avere come interlocutore una macchina ed è un esperimento direi abbastanza vertiginoso molto importante perché la macchina risponde ma risponde a domande anche sulla prognosi risponde a domande su come mi sto curando risponde a domande che di solito richiedono una relazione e invece la macchina non ha nessun criterio per stabilire una relazione la macchina risponde simmetricamente tenendo conto che esistono gli avvocati americani questa è la diversità intrinseca rispetto alla relazione questa è la filigrada con cui noi dobbiamo guardare questo vi invito a sperimentare con libertà ho fatto abbonamenti possono essere disdetti il mese dopo ad esempio perplexiti che adesso mi sembra meno interessante di come era mesi fa infatti l'ho disdetto e gli usi avanzati di cui potrebbe essere il punto di partenza della prossima volta oggi avrei voluto esaurirli sono gli usi che si su cui i clinici i ricercatori stanno provando a studiare ad esempio l'abbiamo parlato l'abbiamo accennato è l'uso dell'intelligenza artificiale per supportare l'attività di pubblicazione questo sta cambiando decisamente lo scenario le tesi di laurea probabilmente non avranno più senso per come sono fatte poi magari sarà recepito dal sistema universitario con decenni di ritardo ma il tema è che oggi un elaborato viene abbiamo il problema delle scuole superiori abbiamo il problema delle scuole elementari dove il CGPT viene bandito ma i bambini dalla scuola media hanno imparato a fotografare i compiti di matematica e farseli svolgere dall'intelligenza artificiale in modo automatizzato e non dobbiamo dimenticare che in alcuni paesi la grafia a mano è stata soppressa a favore del tablet quindi un mutamento biologico addirittura molto importante vi segnalo le funzioni analitiche sui dati se voi avete da qualche parte dei file Excel provate a dargli in pasto a meno che non ci siano i vostri dati riservati io mi sono convinto che non esiste più la riservatezza se una cosa nel mio computer per forza è diventata accessibile anche in rete cioè le cose che devono rimanere segrete bisogna non scriverle anzi bisogna non pensarle questo è il punto altrimenti deve esserci un modello panottico e tutto da dare per scontato che sia accessibile quindi io mi farei pochi scrupoli ma ciascuno si regola come vuole se avete dei set di dati provate a vedere che cosa ci cava fuori chat GPT ci sono le potenzialità mostruose quello che prima erano giorni di lavoro con lo statistico attenzione perché l'allucinazione è a rischio anche qui quindi dovete costruire dei modi non ingenui per avere delle verifiche ma quello che vi suggeriamo delle potenzialità io mi sono avvicinato a questo dando i dati che sono un set tradizionale che sono i dati sulla mortalità dei pazienti dei viaggiatori del Titanic e mi ha confermato che è vero che quelle della prima classe morivano meno di quelle della terza classe per il proposito di inclusione e di pari opportunità mi sono fatto fare le elaborazioni statistiche poi controllate del lavoro di ammalarsi di una malattia rare in tempi di intelligenza artificiale sono riuscito a pubblicarlo sono riuscito a pubblicarlo prima la recidiva un record aiutare sono riuscito a pubblicarlo solo perché c'era l'intelligenza artificiale e ci sono stati due colleghi che mi hanno dato retta Giuseppe Levy e la Sabah Chopar in un momento in cui io non avrei investito su me stesso mi sento poco scusami mi senti mi senti adesso se è meglio secondo me vale anche la pena riprenderli la prossima volta perché sono molto per farvi vedere l'indice della complessità perché mi chiedete l'uso della psicanalisi relazionale non l'ha ancora visto nessuno l'uso della psicanalisi relazionale ma intanto se vediamo l'estrazione l'attendibilità delle risposte sui file pdf già abbiamo una base su cui ragionare assolutamente se non abbiamo l'oracolo se non abbiamo l'oracolo onnipotente ma abbiamo un sistema che deve essere e può essere gestito può essere conosciuto nelle potenzialità nei limiti otteniamo un effetto interessante mentre nell'approccio o entusiastico o spaventato otteniamo secondo me meno meno risultati siamo qui un po' a ragionare su come costruire una dimestichezza con questa macchina vi lascio una metafora che mi aiuta assomiglia di più ad andare a cavallo che andare in bicicletta cazzo vuol dire te lo lascio come un cuan da pensare cioè tuttora me le biciclette io ti dicevo che mi sento amato dalla chargbt quindi dalla bicicletta no dal cavallo probabilmente sì c'è un aspetto di autonomia anche la bicicletta può essere autonoma ma il cavallo ha una personalità ha una personalità ha una personalità che non governi che governi ma ma devi devi patteggiare cioè ti devi conoscere con questo strano animale qui non sappiamo non è animale non è vegetale è informatico è una roba completamente nuova abbiamo bisogno anche di altre metafore bellissimo Carlo tutto bellissimo allora siamo un po' in chiusura sì sì vai vai vi lanciamo alle prossime volte allora intanto come dicevi tu non sappiamo ancora se la psicoanalisi relazionale quando parliamo di allucinazioni ricordiamoci appunto che se noi ci troviamo una risposta del tipo che la Melanie Klein è una psicoanalista relazionale potrebbe non essere un'allucinazione di CagPT perché effettivamente qualcuno sostiene ancora quello quindi intendevo dire che no sentivamo anche Giuseppe Levi in tutto quello che ha detto oggi per cui veramente sono molto grato che parlava appunto di validità dobbiamo validare allora io sono nelle molte animi che ho da una parte un ricercatore ho fatto anche qualche ricerca quantitativa però dall'altra parte sono anche un clinico allora nella formazione credo che noi dobbiamo essere stimolati a riflettere e credo che il modo in cui ci può aiutare diciamo l'intelligenza artificiale a riflettere sia un modo intelligente no dialoghiamo con qualcosa che è intelligente interessante è veramente interessante poi l'altra cosa che volevo dire posso condividere lo schermo un momento io aspetta che ti entra un po' condivisione dovresti mando dovresti potere consenti a zoom cazzo apri vediamo se non è troppo lunga la cosa perché volevo far vedere molto velocemente sto con non riesco Carlo forse allora vedo un attimo se strumenti organizzatori se non mi ricordo altrimenti lo dico dimmi dimmi allora mentre ti ascoltavo in qualche minuto veramente qualche minuto ho raccolto lo stimolo di Daniele che era formulato in modo provocatorio quando diceva sostituire il supervisore ma perché a Daniele piace provocare non stiamo pensando che si possa sostituire niente però riflettere in modo intelligente con CiaGPT sul testo che ho dato a CiaGPT che poi mando a tutti gli allievi del caso clinico di ieri presentato perché lo volevo dire perché è molto fresco in tutta nostra mente perché abbiamo lavorato molto intensamente per quello che volevo dirlo subito e in qualche minuto ho fatto alcune domande che sono quelle che abbiamo fatto ieri se non riesco a condividere però le leggo velocemente perché tanto poi mando e facendo quindi io sto provando ad abilitarti ma sembrerebbe che tu possa già condividerla allora se faccio condividi schermo mi chiede condividi e seguo guarda seguimi anche tu Remo e cosa condividi devi selezionare devi selezionare devi selezionare lo slide o lo schermo ho capito piaccia pure lì ma se non se non se mosso qualcosa ok ok la cosa più semplice è condividere tutto lo schermo in quel caso bravissima devi riammettermi forse Carlone perché non avevo non ti vedo non ti vedo infatti aspetta devi ricollegarti non ti vedo più e perché è interessante perché quello che io ho fatto veramente in qualche minuto ti ammetto sei ammesso grazie vediamo se adesso riesco allora condiviso vao perfetto perfetto vedete qua vedete qua torna sui cattivi cerca di togliere l'audio ho disattivato il tuo audio perfetto mi sentite allora perfetto qui vedete darò il tuo racconto di un caso clinico in trattamento psicoanalitico relazionale sono pronto a leser gli ho fatto copia e incolla passando da text ho fatto proprio la copia del testo che era un pdf l'ho messo sul testo non gli ho caricato un file ma gli ho fatto copia e incolla del testo perché erano solo 5 pagine ci ho messo un istante e 5 pagine c'è il cpt può importare e poi ho cominciato a fargli le domande che ci siamo fatti ieri è un po' lento a seguire aspetta vediamo un po' grazie perfetto mi fa alcuni commenti riflessioni di un supervisione così in generale e dice le cose più o meno che mi hanno detto ieri cioè perché l'ho fatto per gioco ma se io sono a casa e sono o è il mio caso oppure non sono potuto venire e voglio comunque studiare riflettere voglio appunto formarmi discutendo questo caso posso chiedergli delle cose che mi fanno pensare che sensazione ne hai Cesare guarda appunto poi gli ho detto fai la supervisione a questo caso come se tu fossi lo psicoanalista americano Stephen Mitch è vissuto a New York morto eccetera eccetera gli ho citato due libri allora qua la furberia un po' di chat gpt è che gira attorno un po' a questi termini però a mio avviso potrebbe avere anche avuto accesso a qualcosa che c'entra con quei due libri perché vedi che all'inizio un po' furbesco però poi introduce alcuni termini come reciprocità e quindi comunque mi fa riflettere molto interessante allora posso darti un suggerimento aspetta solo un momento sai perché aspetta un attimo Carlone so che siamo tutti così eccitati però volevo in qualche modo coinvolgere l'attenzione dei partecipanti di ieri perché vedi cosa gli ho chiesto gli ho detto potremmo pensare a un senso di colpa ieri abbiamo parlato di questo anche per capire che in una lettura classica freudiana si andava in una direzione che poteva in qualche modo diciamo così creare ulteriori problemi alla paziente la prima lettura che lui fa è perfetta vedete ve lo mando però quindi scorro molto velocemente vedete velocemente le tematiche tattate e poi gli ho anche chiesto se fosse in un trattamento psicoanalitico classico perché ieri abbiamo discusso di questo ed effettivamente lui va sull'analisi del transfer contro transfer guardate il desiderio inconscio di morte vedete vedete e poi allora ho chiesto immaginiamo che io sono a casa che studio e voglio imparare capito le differenze cioè la formazione che abbiamo fatto ieri qua trattava queste cose sono state importanti per noi dopodiché gli ho chiesto ma da un punto di vista psicoanalitico relazionale questo modo di trattare la paziente che poi mi presenta insomma dice delle cose che fanno riflette guardate sbilanciamento del potere del terapeuta guardate alienante per il paziente guardate le cose in altri termini che abbiamo discusso ieri quindi è dialogare con uno stimolo diciamo così no interessante guardate patologizzazione capito ieri anche no ecco mi sembra che mi sono fermato qua ci ho messo sei minuti non so cinque minuti allora intanto preziosissima questa perché stiamo parlando per ora un'applicazione ancora non abbondante ma mi sembra creativa e molto interessante a me piacerebbe un po' chiarire ancora i fondamentali perché ad esempio una cosa del genere io avrei usato o userei come metodologia o un GPT personalizzato o un altro sistema in modo da potergli dare stabilmente un bacino di conoscenze di testi che selezioni tu esatto che approfondisce molto si potrebbe fare tutto il mio tema della biblioteca digitale che sto portando avanti è connesso con questo quindi scusa traduco traduco per capire cioè se io gli avessi dato alcuni testi gli avessi caricato alcuni testi anche con già GPT se no altrimenti con altro quello che sarebbe emerso sarebbe stato ancora probabilmente più stimolato così come spunto o potrei chiedergli anche qua una bibliografia di riferimento il punto è la distrazione dei testi in esteso di cui sei certo non semplicemente delle sintesi magari tratte da wikipedia che sono fatte benissimo ma di testi proprio quindi l'idea di programmare il di programmare un GPT personalizzato o equivalenti e questo questo cioè si tratta di addestrare per compiti specifici noi avevamo provato a farne uno sulla psicologia ospedaliera dandogli in pasto i miei libri e altre cose in modo da vedere poi insomma sono stati altri eventi e mi sono concentrato su altro Giuseppe la conosce questa questione se è un filone che vi interessa io suggerirei di fare la stessa operazione identica ma magari con Claude di Antropic e confrontare le due risposte Già è un'altra possibilità Prima partire da questi strumenti così come sono non è male però vedi si conferma quello che dicevo per te questo contributo è prezioso perché sai giudicare l'output per me che non sono assolutamente un tecnico dico ma sarà vero Hai bisogno di un benchmark o qualcosa del genere sì non stiamo parlando di punteggi parametrabili non è l'esame di emissione alla facoltà di medicina però io personalmente per gli argomenti che conosco l'ho trovato un acceleratore di lavoro tu hai detto io in sei minuti sono già mi sono venute nuove idee ed è appunto questo l'effetto io direi che ci teniamo questo interrogativo magari se Cesare tu vuoi mandarmi i prompt io te li faccio girare su su Antropic Cloud e vediamo ti rimando gli output e potreste provare a farvene qualcosa a ragionare su come Carlo darci qualche diciamo consegna qualche compito da questa alla prossima allora intanto gli allievi se possono esercitarsi in modo da avere domande da farti allora io vi direi adesso se andate non so come faccio a condividere il link della aspetta vediamo un attimo domandi poi le faccio girare allora se voi andate in prospettive cliniche scusate ci metto un secondo ma così facciamo una cosa definitiva www.prospettivecliniche.it www.prospettivecliniche.it c'è il libro è il secondo è il secondo forse il pdf va rigenerato perché abbiamo corretto alcuni errori però intanto adesso per semplicità sono errori di formato i contenuti mi direi mi sembra che sia vediamo di farlo allora condivido allora se voi andate qua allora non solo per oggi e comunque sempre sempre senza costo c'è questa sezione del sito prospettive cliniche dove se voi scorrete prospettivecliniche.it sezione libro scendete e qui avete scarica libro versione compressa ok ve lo scaricate questo è un libro di in pdf in 250 pagine che contiene quello che noi diremo abbiamo detto oggi non abbiamo detto oggi chissà se diremo e quello che vogliamo dire la prossima volta sostanzialmente solo che adesso abbiamo un certo margine di libertà ma ci siamo persi una parte di spiegazioni magari un po' più organizzate io vi direi leggetevi la parte i primi i primi capitoli sull'uso dell'intelligenza artificiale sulle basi in modo che se avete una base di uso di minime poi possiamo ragionare sugli usi diciamo applicativi ricordo anch'io la consiglia vi ringraziamo tantissimo alle due e mezza abbiamo benissimo vi lasciamo andare straordinario interessantissimo grazie mille e quindi ci vediamo tra 15 giorni vi saluto Rocco anche grazie Rocco ciao grazie a tutti grazie a voi grazie ciao Giuseppe ciao ciao a tutti gli amici a Torino grazie arrivederci arrivederci direi che è andata molto bene 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 ci sentiamo dopo ciao ciao a presto